Riprendiamo i lavori. Questa mattina abbiamo una sessione interamente dedicata a Turandot che si è autocreata, nel senso che molti di voi hanno proposto questo tema, evidentemente di primario riferimento per Gozzi e per la fortuna di Gozzi, e quindi siamo riusciti a mettere insieme un'intera sessione dedicata a Turandot, intitolata Intorno a Turandot. Esibisco, l'ho già fatto ieri all'inizio del convegno, il nuovo volume dell'edizione nazionale Gozzi, che vedete probabilmente a specchio ribaltato, che è l'edizione a cura di Nadia Palazzo con l'introduzione di Paolo Bosisio, che è presente tra i relatori della mattinata e che riceverete presto. Allora, peraltro, questo volume contiene, come tutti i volumi dell'edizione nazionale Gozzi, una nota sulla fortuna che ha dimensioni ragguardevoli, posta alla fortuna di Turandot, è molto interessante e gradito che si aggiunge alle, come dire, alle consuete piste battute quella della Turanda di Gazzoletti e Bazzini, 1866-67, e abbiamo ben tre relazioni o due relazioni, di cui una due voci, dedicata a quest'opera, che costituiscono la prima parte della mattinata, e questo è particolarmente rilevante, insomma, questo incremento. Allora, la prima relazione è di Anna Laura Bellina. Allora, tutti quanti, come si dice sempre, non serve che ci presentiamo, ci conosciamo tutti, però anche per le persone giovani e gli altri collegati vari, spendiamo due parole e leggo rigorosamente le righe che ciascun relatore ci ha mandato. Anna Laura Bellina ha conseguito il diploma di pianoforte principale, il compimento inferiore di organo e composizione organistica, e il diploma di clavicembalo presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Nel frattempo si è laureata in lettere all'Università di Padova, discutendo con Vittore Branca una tesi dal titolo struttura del libretto d'opera comica nella seconda metà del Settecento. Si occupa prevalentemente di storia dell'opera italiana. Ecco, peraltro, non posso esibirlo perché non l'ho qui, ma è uscito insieme alla Turandot che ho esibito poco fa, sempre da Marsiglio, il nuovo volume dell'imponente edizione dei libretti di Goldoni, che sta quasi arrivando in porto, e quindi questo è particolarmente rilevante. Anche di questa possiamo omaggiare i relatori che ci fanno richiesta. Grazie, mi taccio e lascio senz'altro la parola a Anna Laura. Il titolo della sua relazione è Calaf e Nadir dal Caspio all'India. Mi sentite? Mi sentite? Benissimo. Ah, beh no. Allora, grazie, Mario. Io vorrei mettere su questa roba. Scusate, non questa, questa. Ecco. Allora, vorrei parlare di quattro rappresentazioni di Turandot. Turandot e Turanda, insomma, no? Una filiera, come si deve dire adesso. Queste quattro rappresentazioni sono quella di Gozzi, ovviamente, del 1762, quella di Schiller, del 1802, rappresentata poi nel 1806, con la regia di Goethe, è vero? C'è chi può? A Weimar. Poi c'è quella di Maffei, che traduce Schiller nel 1863, e poi c'è quella di Gazzoletti e Bazzini, la Turanda del 1867. Io avrei fatto una tabella, che è questa, e mi limito a commentarla. Allora, i sottotitoli di queste opere. I sottotitoli indicano generalmente il genere a cui si ascrive, diciamo, la pièce. Gozzi, Maffei e Schiller concordano. Favola, Pola, Mershin e sempre Tragicomica, tutte in cinque atti. Gazzoletti, invece, scrive una fantasia, un'azione fantastica, in quattro atti. Questa azione fantastica è un genere che era diffuso soprattutto nel balletto, e soprattutto nel balletto napoletano, dove lavorava Salvatore Taglioni dal 1831 alla morte avvenuta nel 1868. Tanto per darvi un'idea di cos'è un balletto fantastico, vi dico dei titoli. Faust, Il vampiro e La tempesta, ovviamente questa tratta da Shakespeare. Secondo, qual è la fonte primaria? Beh, come è noto, in persiano, il nome della protagonista significa figlia, Docte, la cui dota, torta, eccetera. Figlia del sovrano di un regno oltre l'Iran, cioè del Turan. E diventa Thurandot, in Petit de la Croix, come è noto, nelle Emile en Jour del 1710-12, e poi, successivamente nel 19, Ancient Boatville, sullo stesso argomento di Lesage e D'Orneval. Il macro di queste pièce è ovvio, cioè sono tutti endecasillabi per Gozzi, Schiller e Maffei, salvo degli scarti, cioè gli scenari in prosa per le maschere di Gozzi, e poi soprattutto lo scarto metrico che avviene quando Thurandot propone gli indovinelli. Gazzoletti si scosta, ovviamente, perché nell'opera c'è la distinzione tra il citativo e il pezzo chiuso, che non può essere dimenticata, e soprattutto i versi virgolati, i cosiddetti versi virgolati a margine, si omettono, ma gli editori li stampano. In questo caso è l'editore Lucca. Il luogo dell'azione. In Gozzi, Schiller e Maffei, il protagonista, si sposta da Ovest a Est, ovvero dal Mar Caspio, più o meno, o dalla Georgia, quella che sta in Europa, naturalmente, a Pechino. Invece, in Gazzoletti, compie il cammino inverso, perché si sposta dall'Indio alla Persia, ovvero a Seleucia, ma da Insul Tigri. Con un po' di fantasia si può pensare a un precedente, la Thurandot di Hoven, che è un pseudonimo, del 1838, ambientata in Persia, quinchè dichiaratamente tratta da Schiller. L'epoca dell'azione è naturalmente favolosa, come del resto lo è in ambientazione, ma si lascia ricostruire per quanto riguarda Gozzi, Schiller e Maffei, i quali parlano del sultano di Carismo, e quindi ante XII secolo, perché il sultano di Carismo è stato spodestato da Gengis Khan, di cui parlano sempre Petit de la Croix e le Sage. Cazzoletti invece è precisissimo, dice che l'azione si svolge nel periodo in cui regnano gli ultimi sassanidi, e quindi prima del 1628 d.C., perché i sassanidi sono stati spodestati da Eraclio. Ognuno coltiva la sua religione. In Gozzi, Schiller e Maffei si venerano di dèi e i profetti cinesi, quindi Confuzio, noto Confuzio, confuzio, noto in occidente dalla fine del Cinquecento, Foyi o Foei, che è menzionato da Duhald, nel suo poderoso trattato del 1835, noto a Mettostasio, e Tieng che significa cielo, tant'è vero che Tieng Ang Men significa piazza della pace del cielo, è un nome usurpato. Invece in Gazzoletti si venerano altri due individui, altri due elementi, insomma, o Romane e Arimane, che sono il bene e il male dello zoroastrismo, persiano ovviamente. L'Europa aveva riscoperto, diciamo, è mostrato un certo interesse per lo zoroastrismo a partire dagli anni 30 dell'Ottocento. I personaggi, come al solito, i personaggi sono comuni a Gozzi, Goldoni e Maffei e concordano sia nei nomi dei personaggi che nelle didascalie. Gazzoletti no, e mostra una certa fantasia e anche un certo eclettismo. Per esempio, Nadir sarebbe il polo dell'orizzonte, in realtà, quello opposto allo zenith, nonché è anche un personaggio esotico, buono per l'ambiente orientale, per esempio, capita nella schiava di Bagdad di Pacini nel 1820, dove è un siriano, è buono anche però per l'Occidente, perché si ritrova nell'arena del Messico di Luigi Ricci del 1830. Ormut, che sarebbe il profeta, ricorda lo stretto di Ormut, che sta proprio in Persia, e soprattutto ricorda il nome esotico che compare, per esempio, in Selim e Zuleima nel 1800, un'opera del 1829. e l'unica che salva è Turandot, che chiama Turanda, probabilmente per ragioni metriche, perché Turandot è scomoda, e poi salva Adelma, di cui però cambia i connotati completamente, perché da schiava ipocrita diventa la classica confidente, ecco, e quindi la seconda donna dell'opera. E poi il nostro Gazzoletti è Memore di Metastasio e di Zeno, perché Cosore II di Persia, che sarebbe il re della sua Turanda, detto Parviz il Vittorioso, è un personaggio di Zeno e di Metastasio. Gandarte non parla, però è un generale indiano nell'Alessandro dell'India di Metastasio, poi impiegato in altri danni per musica, almeno finalmente 1825. Quindi l'unica che salva è Adelma. Ecco, cambia, come ripeto, i connotati. I luoghi comuni di quest'opera, vado giù, no, non vado giù, aspetta. I luoghi comuni di quest'opera, insomma, i topoli, sono comuni a Gozzi, Schiller e a Maffei. C'è l'innamoramento a distanza, che è buono da boccaccio o almeno al frauto magico, e poi c'è la lettera rivelatrice, che è sbeffeggiata da Benedetto Marcello nel teatro alla moda e che comunque si ripropone nell'opera italiana numerose volte. invece, in Gazzoletti questi due mancano, però c'è il canto nel sonno, anch'esso sbeffeggiato da Benedetto Marcello, sempre nel teatro della moda e duro a morire perché nel sonno canta anche Zucena, per esempio, nel trovatore. La musica di scena. Gozzi la prevede. Weber la scrive per Schiller nel 1809, ma Fei pure la prevede, come i suoi antecedenti e negli stessi luoghi. Nell'opera, ovviamente cantata per intero perché l'opera italiana è sempre cantata per intero, lo scarto è uno solo, cioè Bazzini impiega la banda sul palco quando entra il soprano. Per inciso, quando esce la protagonista di Schiller, Gozzi è ancora vivo e è ancora più vivo era quando Ver come si chiama? questo Vertes Vertes realizzò la prima traduzione in prosa nel 1779 però probabilmente non le conosceva. Invece era già morto quando si rappresentarono circa 5, 4, 5 esinspile tutti i tratti da Schiller almeno dal 1809 al 1866 quindi tutti attecedenti all'opera di Gazzoletti e Bazzini gli indovinelli presentano sempre uno scarto metrico rispetto al resto rispetto agli indica sillabi in cui è scritto il resto per Gozzi, Schiller e Maffei. Gozzi usa un'ottava usa dei settenari in rima e degli indica sillabi in rima Schiller usa settenari nove nari e nove nari ancora sempre in rima Maffei una climax o un climax che dirvogliate Quinari settenari no Quinari senari e settenari tutti i doppi e Gozzi presenta un climax o una climax se dirvogliate che manca in Schiller e Maffei e che finisce trionfalmente con Leone di Venezia improponibile ovviamente dopo la caduta della Repubblica al suo modo Gazzoletti restaura questo climax invertendo l'occhio all'eratro di Schiller e di Maffei però nell'opera non si può parlare in scartometrico con gli indovinelli perché l'opera è sempre per inciso anche gli indovinelli per salvare la pelle e per sposarsi vengono da molto lontano come viene da lontano l'innamoramento a distanza appunto a quale ho già accennato se Edipo io dico Edipo si dovrebbe dire Edipo se Edipo non avesse risolto l'enigma proposto dalla Sfinge su cui si sono esercitati Freud e Levi-Strauss almeno loro sarebbe stato divorato dalla Sfinge medesima e non avrebbe sposato Giocasta e magari sarebbe stato meglio e poi per l'altro indovinello di Edipo si sono esercitati in pochi invece l'indovinello domanda chi sono le due sorelle che si generano e si rigenerano a vicenda sono i giorni e la notte che sono femminili in greco e che forse così una reminiscenza colpisce di cui forse una reminiscenza colpisce Gozi perché il secondo indovinello nel secondo nel primo secondo indovinello quando parla del sole e dell'anno quindi Gozi Schiller e Maffei rappresentano un insieme compatto destinato al teatro parlato ovviamente con qualche intervento di musica di scena Cazzoletti invece si discosta parecchio ma si discosta parecchio non solo da queste fonti bensì anche da repettori correnti repertorio che conta moltissimo Turanda esce nel 1867 questo significa che Verdi frequentava il salotto della moglie di Maffei Clarina e aveva già collaborato con lui per esempio si innamora Verdi di Shakespeare in particolar modo del Macbeth tradotto da Maffei insieme a Turanda e scrive il primo Macbeth per Firenze nel 1847 nello stesso anno mette in musica i masnadieri tradotti da Schiller sempre col libretto di Maffei destinato a Londra però dal 1749 Luisa Miller Rigoletto Traviata e no Trovatore prima e Traviata danno ragione a George Bernard Shaw sono tutte storie di un soprano che vuole andare a letto con un tenore e di un baritono che glielo impedisce Turanda è tutto il contrario è la storia di un tenore che vuole andare a letto col soprano recalcitrante e ci riesce con l'aiuto di un baritono e di un basso che non vedono l'ora di accasare la principessa pestifera anche gli operatori ovviamente anche frequentano il repertorio dei teatri il repertorio corrente quello che poi frequentiamo anche noi in particolar modo Verdi Donizetti e Rossini i cantanti di Bazzini sono abbastanza noti e fanno carriera questo è un po' un trampolino di lancio per loro diciamo che Fancelli il tenore che fa Nadir è alla scala del 1860 almeno dove fa il pescatore nel Guillauntel cioè una cosa non molto visibile e però nel 1868 fa il ruolo del titolo nel Don Carlo ovviamente di Verdi Luigi Vecchi che fa Cosroe quindi basso è attivo in quegli anni alla scala dove fa Ferrando nel nel trovatore ovviamente e e poi lo ritroveremo nel Don Carlos dove farà Filippo II quindi un ruolo più importante a Trieste Tito Sterbini fa il mago Ormute un baritono e con Vecchi e con Fancelli fa Alfonso nella favorita alla scala nel 1867 Maria Destin fa Turanda soprano ovviamente con Vecchi e poi fa Eboli sempre con Vecchi a Trieste e può vantare una carriera non tanto internazionale ma nazionale di sicuro da Milano a Palermo l'ultima ruota del carro ma divertente è Giulietta Colbran che fa Adelma cioè la confidente e Giulietta Colbran è figlia di si chiama in realtà Julia Espin de Perez de Colbran ed è discendente di Isabella Colbran che era la seconda moglie di Rossini come noto e figlia del musicista Joaquin Espin lei si fa una carriera internazionale tra Spagna Italia Russia e Parigi e poi è l'amante diciamo di uno dei più grossi esponenti del romanticismo spagnolo che la corteggia furiosamente e con questa nota frivola io concludo dicendo che Gazzoletti è un patriota irredentista amico di Percoto Tommaseo e ovviamente di Maffei a cui dedica un poema che si intitola Le grotte di Adelberga che è postumio imprigionato a Innsbruck fugge in Lombardia dove continua a frequentare il diritto che aveva preso l'Università di Parma insomma è un picco però però questa in questa nota diciamo di irredentismo che non percorre soltanto lui ma anche gli altri operatori il poeta Cesario è indimenticabile ed è duro a morire Pegliasburgo Metastasio impiega la lettera rivelatrice il canto nel sonno e il nome di Gandarte che è il capitano delle guardie nell'Alessandro Manzoni sbaglia quando quando dichiara nella prima fin dalla prima stesura cioè del Fermo e Lucia e fino alla ventisettana e poi alla quarantana che Don Ferrante andò a letto a morire di peste no? prendendorsela come un eroe di Metastasio prendendorsela con le stelle ora o Manzoni non aveva letto Metastasio o faceva finta di non averlo letto perché tanto per cominciare dopo Didone e dopo Catone non muore più nessuno e soprattutto nessuno dei due imbocca le stelle in compenso Catone compare in Catone compare cinque volte la parola stelle soltanto e quindici volte la parola patrie grazie avrei finito ah dimenticavo l'altro coso che è questo questa è una specie di stemma che riassume le non lo vediamo devi condividere lo schermo non l'abbiamo vista la ripositiva non l'abbiamo visto niente abbiamo visto te abbiamo capito tutto però ah beh no comunque possiamo possiamo inviare a tutti no le ha inviate nelle mail non le abbiamo avute ecco questo secondo schema è quello che diciamo in parte in maniera congetturale in parte in maniera invece sicura da la la filiazione di questa roba quindi Gozzi che deriva da Petit de la Croix forse forse da Lesage poi viene tradotto in prosa da questo Vertes poi da Gozzi deriva Schiller che è una traduzione abbastanza letterale da Schiller derivano dichiaratamente almeno cinque o sei zinspile Maffei ritraduce Schiller ma con la scorta di Gozzi dove non capiva il tedesco e da tutto questo giro di di traduzioni deriva Gazzoletti il quale prende sia da Gozzi sia da Schiller e probabilmente da questo joven in quale rovescia la situazione ecco questo più o meno quello che si riesce che sono riuscita a capire vi ringrazio ancora grazie ad Anna Laura Bellina allora è stato bellissimo è un affresco davvero puntualissimo della storia di Turandò adesso con queste prospettive intermedie che variano moltissimo restiamo e anzi entriamo nei dettagli credo della Turanda di cui abbiamo sentito ora e quindi Gazzoletti Bazzini con la relazione a due voci o a quattro mani di Federico Fornoni e Giovanni Polin prima parla Giovanni Polin poi Federico Fornoni che si intitola appunto Intorno a Turanda di Antonio Gazzoletti Antonio Bazzini 1866-67 drammaturgia e ricezione due parole su ciascuno per ciascuno Giovanni Polini insegna musicologia sistematica al conservatorio di potenza tra le sue aree di ricerca la storia del teatro musicale italiano la storia della ricezione la filologia musicale e la storia dell'estetica musicale e altre argomenti ai quali ha dedicato articoli in importanti riviste e interventi poi pubblicati negli atti di oltre 30 convegni internazionali di studi Federico Fornoni che insegna storia della musica presso il medesimo conservatorio si occupa principalmente di drammaturgia dell'opera ottocentesca e di storia della musica in Lombardia oltre a decine di articoli riviste internazionali atti di convegno e volumi miscellane ha pubblicato una monografia su Donizetti e in corso di stampa un libro sulla seduzione nell'opera italiana del secondo ottocento che immagine quella cosa di cui ci ha parlato Anna Laura dei soprani che vogliono andare a letto con i tenori e così via i baritioni che non vogliono bene gli è stato assegnato il premio Puccini ricerca del centro studi Giacomo Puccini di Lucca e lascio loro senz'altro la parola allora un attimo che ecco qua adesso condivido questa ecco qua che riuscite tutti a vedere anche Pop non vedo niente non so cosa ho combinato si vede si vede benissimo si vede ok allora posso posso cominciare allora Turanda azione fantastica in quattro parti su versi di Antonio Gazzoletti e note di Antonio Pazzini andò in scena per la prima volta alla Scala di Milano il 13 gennaio 1867 l'opera fu pensata a partire dalle suggestioni insomma come è noto di un soggetto fantastico favoristico non comune nell'esperienza melodrammatica italiana ottocentesca la cui realizzazione venne determinata non solo dalla cultura musicale teatrale del bel paese ma credo anche in buona parte dalle esperienze pazziniane come ascoltatore in ambito tedesco e francese il che determinò un approccio compositivo in parte non convenzionale che non fu particolarmente come avremo poi apprezzato l'opera era stata concepita già due o tre anni prima del 1867 come testimoniato da fonti rese ben note da Claudio Sartori che a questo testo ha dedicato più interventi e aveva subito un percorso creativo piuttosto complicato esso era stato segnato dalla morte prematura del librettista Gazzoletti eccolo qui qui lo vediamo in un ritratto che venne realizzato in occasione dell'elezione di Gazzoletti al senato della repubblica dopo che lui insomma dopo tutti i suoi trascorsi irredentisti insomma era andato in Lombardia era diventato sostituto procuratore a Brescia nel 62 poco prima venne eletto invece nel collegio elettorale di Siena vi dicevo era stato segnato dalla morte prematura del librettista Gazzoletti nell'agosto del 1866 che spirò Gazzoletti a quanto racconta l'editore memorialista triestino Giuseppe Caprin letteralmente tra le braccia di Bazzini che era andato a trovarlo probabilmente anche per chiedere ulteriori modifiche al libretto l'inesperienza di Bazzini come operista aveva inoltre probabilmente indotto l'autore Bresciano a chiedere consiglio a vari cantanti su come portare a tebbine nel modo più efficace e d'impresa di realizzare a teatro un'azione fantastica cosa piuttosto inuguale insomma come vi ho già detto la cosa è testimoniata ad esempio in una ben nota lettera bazziniana pubblicata da Sartori veramente non ve la cito neanche perché davvero è stata pubblicata più e più volte nella quale Bazzini dichiare di accettare i consigli della famosa prima donna Carolina Unger che qui vediamo in un ritratto più o meno dell'epoca insomma in cui fu contattata da da Bazzini e su come realizzare anche questa lettera riguardava su come riguardava come realizzare anche dal punto di vista scenotecnico uno dei momenti in cui dell'opera c'è una scena di incantamenti che c'è nella terza parte e che presentava delle difficoltà di natura scenotecnica che poi come vedremo molto probabilmente non furono insolte in modo del tutto soddisfacente ma vediamo anche altre cose la scala prima della messa in scena di Turanda stava vivendo un momento molto complicato perché la caduta dell'opera inaugurale della stagione di Don Sebastiano e Donizetti il 26 dicembre aveva portato una serie di disordini pubblici e di dimissioni in massa dei vertici artistici del teatro tra cui anche il direttore il vice direttore insomma dell'orchestra e prefettura e questura avevano decretato la chiusura della sala per alcune settimane nel bel mezzo della stagione il 28 dicembre il Pungolo un giornale diretto dal triestino Leone Fortis eccolo qua dichiarava queste cose e lo potete leggere se le nostre informazioni sono esatte la impresa e la direzione della scala avrebbero finalmente capito che le gualciture dello spettacolo erano troppe e troppo gravi perché i rattoppi e i rappezzi potessero bastare a dissigurarle che bisognava pensare a far casa nuova spazzando le macerie in forme indecorose di quell'infelice diroccamento avvenuto la sera di Santo Stefano e distruggendone perfino la memoria dice poi l'impresa rinunziano con un certo coraggio agli spettacoli di ripiego che per solito non ripiegano a niente avrebbe deciso di tenere chiusa la scala fino a 12 di gennaio nel quaggiorno si farebbe come una seconda e legittima inaugurazione della stagione con la speranza e il proposito che possa far dimenticare quella prima e illegittima del 26 dicembre naturalmente si produrrebbe nella medesima la turanda del maestro Bazzini con la destina in Francialli Stervini e Vecchi e il nuovo ballo Sardana Pallo del Taglioni di cui si grande l'aspettazione e di cui si dicono profuse ricchezze e in cui si dicono profuse ricchezze veramente orientate vedremo ok così il trovatore il 26 gennaio un altro periodico dell'epoca dice la scala non dà segno scusate il 5 gennaio scusatemi dice la scala non dà segno di vita lo vedete anche qua il nostro maggior teatro colpito da poplessia in quella funesta sera di Santo Stefano aspetta la sua guarigione con la Turanda e con il Sardana Pallo allora una lettera del direttore di teatro di Verona il compositore Carlo Perotti che in quel periodo si trovava a Milano che viene scritta dal nobile direttante Marco Summan che era la causa questa lettera ha un carattere molto familiare perché questi due poi suonavano insieme musica da camera con Bazzini nella villa di Marco Summan a Bassano del Grappa e questa lettera venne pubblicata ancora alla fine degli anni 30 da Bruno Brunelli in questa lettera datata 9 gennaio 1867 Perotti riferisce quanto all'opera del Bazzini pare che il celebrato artista si trovi in qualche impizzo perché a quanto dice la Gazzetta dei Teatri pare che la sua musica sia imbrogliatissima tanto che Cavallini che era quello che era subentrato come direttore d'orchestra N.D.R. ha dichiarato che era ineseguibile e un bel giorno i professori d'orchestra ad una prova abbandonarono il loro posto protestando che la musica Bazziniana era di troppo difficile esecuzione vedremo cosa succederà fine della citazione il 9 gennaio il Pungolo il giornale quello di Leone Fortis che abbiamo detto prima pubblicò un riassunto delle vicende dell'opera e il 12 gennaio un altro periodico il Cosmorama Pittorico eccolo qua andava avanti dicendo insomma poche parole potete leggere che non si prevedono sostituzioni questa sera intanto salvo i casi imprevedibili preveduti dall'impresa nell'ultimo suo manifesto si riapre la scala con la Turanda di Pazzini e col Sardana Palo e i Taglioni che ha avuto la fortuna di mettere il naso nel santuario delle prove con tanta gelosia custodito dai cerberi della direzione prevede nuovi guai per l'opera ma un trionfo per il ballo ciò basterà salvare le sorti del nostro teatro che ormai non ha gran cosa a sperare dalle gole canone e può fare miglior assegnamento sulle polpe del corpo di ballo e poi insomma in poche parole dice che in ogni caso non hanno ancora pensato a una sostituzione a un'opera sostitutiva se questa dovesse andare male Duranda ebbe dunque il suo debutto in un clima di grande aspettativa ma anche era attesa da qualche parte con una certa prevenzione come quella manifestata da un settimanale sempre cuevo il trovatore che nel 12 gennaio recitava qui diceva poi naturalmente anche qui commenta il fatto rivoluzione completa o almeno confusione completa alla scala volevano dare lo zampa di Erolder erano già distribuite le parti quando si mutò ai pareri in suo luogo daranno gli ultimi giorni di soli opera che non ha nessuna attrattiva e poi cambieranno ancora idea insomma e anche questa poi salterà per spiegare c'erano due compagnie che ruotavano contemporaneamente alla scala una che era impegnata in la Turanda e l'altra che era stata quella impegnata nel Don Sebastiano che era caduto ecco del resto dice la direzione all'impresa sono sempre impenitenti vale a dire non pensano che la Turanda senza disporre che l'altra compagnia abbia a tenersi preparata con un'opera di ripiego se per caso la Turanda facesse fiasco ciò che non crediamo e che non desideriamo ci troveremo nella stessa condizione cioè non potendo dare un'altra opera dovranno chiudere il teatro un'altra volta la sarebbe bella ecco quindi diciamo che le premesse erano di aspettativa ma anche un'aspettativa molto critica nei confronti di quest'opera la prima venne data quindi poi il 13 gennaio e dopo la prima e la seconda recita comparvero varie recensioni la prima fu quella del quotidiano milanese La Perseveranza che purtroppo non sono riuscito a vedere per chiusure problemi di accesso alle biblioteche che causa Covid però fu una recensione molto pesante sia perché La Perseveranza all'epoca tirava ben 10.000 copie che era un giornale molto diffuso sia per per la penna questa recensione era stata scritta dal suo appendicista come si diceva Filippo Filippi che da sempre era favorevole a Bazzini ma un epitome di questa questa recensione si può comunque ricavare da uno schizio biografico su Bazzini apparso nel periodico Il mondo artistico Giornale di Musica e Teati e delle Belle Arti nel 1868 vediamo qua se ve l'ho messa anche qua no aspettate invece no e comunque in poche parole in questa in questa recensione in qualche modo Filippi pur riconoscendo alcuni problemi all'opera all'opera di Bazzini ne ne rodava complessivamente la tenuta dicevo prima prima recensione questa del della perseveranza qui seguirono a ruota quella del bungolo con l'articolo del dottor verità pseudonimo fortis il 14 gennaio 1867 dello spirito folletto edito da Sondogno del 17 gennaio poi quella riconducibile a Tarchetti è sostanzialmente uniformata quella della perseveranza della palestra musicale del 20 gennaio data in cui videro la luce anche i commenti della Gazzetta musicale probabilmente ad opera di ricordi stessi del Don Martio li aveva preceduti il 19 gennaio una lunghissima articolata critica apparsa sul trovatore seguiranno il 21 gennaio il commento di Francesco d'Arcais sul periodico fiorentino l'opinione e il 22 gennaio un ampio resoconto pubblicato dal Cosmorama pittorico per ovvie ragioni di tempo vi risparmio tutte tutte queste recensioni però riassumo alcuni dati comuni che in qualche maniera vengono riportati un po' da tutti allora il primo lo spettacolo opera più balletto alla prima fu eccessivamente lungo durava oltre sei ore insomma tanto che a partire dalla seconda recida si procedete a dettagli sia nella partitura abbazziniana che nel balletto Sardana Paro per vivere una uno dei recensori diceva che il pezzo più bello dell'opera che era il guetto finale insomma arrivava tipo a mezzanotte e mezzo a luna quando ormai la gente o era stanca o se n'era andata addirittura a casa seconda cosa il titolo Duranda recce per 12 sere solo perché non vero un'opera alternativa da porre in scena questo è un altro dato di fatto tutti i critici concordano nel ritenere inadatto il soggetto scelto nonostante la qualità letteraria riconosciuta ai versi di Gazzoletti dove i commentatori si dividono è nel giudizio sulle scelte musicali di Bazzini e sulla propriatezza della partitura e sulla messa in scena tra alcuni come il bungolo efficace mentre tra altri come il trovatore ci furono dei problemi vediamo in un certo punto poi dicono invece i macchinismi sono ancora alla scala in uno stato adamitico in teatri di provincia abbiamo veduto la diroccata e parata del profeta eseguita con maggiore ingegno e con più precisione e con più illusione in poche parole tutta una serie di effetti scenotecnici evidentemente non andarono esattamente a buon fine venendo alla musica di Bazzini da un lato abbiamo chi sostiene la qualità di quanto scritto dal compositore bresciano come Filippi Tarchetti Dark Eyes of Ortis pur se quest'ultimo con molti e ben articolati distingo da un altro lato vi è chi sostiene la complessiva insostenibilità dell'operazione tentata da Bazzini come Don Marzio la calzetta musicale il trovatore o il cosmo rama pittorico tutti tutto sommato sono concordi nel sottolineare la parziale anticonvenzionalità della scrittura musicale e la turanda Filippi sottolineerà un anno dopo nel mondo artistico che è quello che vi dicevo dopo eccolo qua il Bazzini è stato un troppo lungo un fedele interprete dell'arte italiana un troppo fervente sostenitore a melodia per metterlo fra le nebbia e la squadra romantica nessuno più italiano più melodico di lui ma nessuno anche più alieno da tutto ciò che è mestiere convenzione formula fabbrica e non creazione di musica eccetera eccetera insomma in poche parole il Bazzini non creò delle melodie efficaci ma neanche si affidò in qualche maniera a un impiego sistematico delle solite forme per capirci un attimo un po' all'ingrosso il critico del Don Marzio centra uno dei problemi della partitura di Bazzini rispetto agli orizzonti di aspettativa del pubblico coero eccolo qua Don Marzo del 20 gennaio sul merito dello spartito diremo brevemente essere privo quasi affatto di ispirazione essendovi molti recitativi e nei primi due atti non un pezzo di canto veramente italiano non deve poter gustare la cosa peraltro è particolarmente smentita da da ricordi in una notissima lettera a faccio il duetto dell'ultimo atto a nostro avviso il pezzo più saliente della partita fu quello che maggiormente lo stato del pubblico venne fragorosamente fraudito ci furono altri applaudi in vari punti dell'opera ma però li riteniamo più di favore che altro non essendo di avviso fossero spontanei e di buona lega tra l'altro di Fucchi e Malignò che alla seconda recida Bazzini avesse fatto venire da Brescia una sorta di claque il trovatore rincara la dose in perfetta regola e quel contropunto per noi nella Turanda ci sarà più profondità di quella che abbia un pozzo artesiano ma l'effetto che ci ha prodotto è quello di un geroglifico di suoni e di recitativi altro che avvenire da Neuser in alcuni tratti ci paiono Lucia e Rigoletto in confronto al secondo altro di questa Turanda questa cosa può abbastanza meravigliare perché in realtà in Italia all'epoca non si era ancora sentita una sola nota di Wagner a teatro questo quindi è abbastanza interessante e poi andando avanti poi c'è questa cosa del trovatore in quanto a Bazzini egli ha voluto staccarsi dalle tradizioni dell'antica scuola italiana egli ha voluto andare in cerca del gran segreto e non l'ha trovato ha dato un calcio alla melodia all'ispirazione per buttarsi al capofitto nel recitativo e nell'istrumentale e non ci è riuscito eccetera eccetera il recensore della Gazzetta Musicale riconosce anche una serie di pezzicoli di meri usciti che coincidono con quelli della nota lettera stroncatura di ricordi a faccio che non vi riporto perché è arcinotta sulla Turanda una testimonianza da me è resa nota da Sartori se da un lato le poche cose buone che si riconoscono da alcuni abbazzini sono i pezzi più convenzionali da un altro lato Fortis nel pungolo rimprovera invece il maestro del piano di non aver usato abbastanza nell'affrontare i soggetti che ho fantasti per cui c'è un'osservazione secondo me piuttosto interessante del pungolo Leone Fortis quindi Leone Fortis vuol dire anche riferimento in parte anche all'ambiente un po' della scapigliatura dell'epoca per certi versi e comprenso che quei personaggi sono uomini o donne ma che ci versano poi non sono l'uno e l'altro è il tentare l'assurdo si cominciano qui a delineare alcuni temi utili per una ermeneutica dell'opera e i pazienti da considerare come uno dei fenomeni che si manifestarono per dire Confortis qua sempre così in un'epoca vedete qui di transizione artistica in questa epoca i sistemi cozzano tra loro e si distruggono a vicenda spesso in platea della scala come nelle colonne delle appendici critiche l'arte sacrificata alla partigianeria musicale assunta eccetera eccetera la vedete anche qui a questo punto mi pare opportuno considerare queste recensioni non soltanto come una maiera testimonianza cronarchistica della Virgumsgeschichte di un titolo come Duranda ma anche come possibili chiavi di lettura per comprendere modi e motivi per i quali questa azione fantastica definita Sancio Panza con l'armatura di Achille dal primo violoncello della scala Quarenghi in una lettera a Suman non riuscì a sfondare e queste lettere potrebbero essere utili a inquarrarla in quella nuova visione della funzione e del senso dei testi spettacolari che in quegli anni stava provando ad affermarsi a partire dai tentativi più o meno fallimentari provati nell'ambiente della scatigliatura in autori come Faccio e Boito ad esempio ma anche a partire per l'interpretazione di questa cosa da quel saggio sulla riforma del teatro italiano che Gazzoletti fece dare alle stampe nel 1861 a questo punto mi tazzo e passo passerei direttamente la parola al mio collega Sì allora io riprenderò alcuni punti che sono già stati toccati sia da Anna Laura Bellina sia da Giovanni Polin proverò un po' a leggerli diciamo all'interno di un discorso più drammaturgico ecco legato all'opera va tenuto conto che appunto per le note cause di Covid ma anche per una situazione particolare in cui è conservata la partitura non c'è stato possibile vederla perché la partitura autografa di Bazzini è al conservatorio di Milano e non è catalogata nel fondo Sartori non è catalogata quindi insomma bisognerà mobilitarsi per poterla visionare insomma volevo partire un attimo intanto appunto dall'argomento perché come già diceva Giovanni Polin questo è un argomento inusuale per un'opera italiana dell'Ottocento tanto è vero che Turanda è il solo titolo derivato dal precedente di Gozzi mentre appunto come diceva anche Anna Laura Bellina invece ha avuto una certa fortuna nel teatro musicale tedesco proprio in virtù dell'adattamento scilleriano del 1802 questo interesse probabilmente proveniva anche dalla componente fiabesca che era una componente primaria nel teatro tedesco negli anni 30 Wagner trae la sua prima opera Le Fate di Fenn dalla Donna Serpente proprio di Gozzi eppure la filiazione in qualche maniera segue delle vie consuete intanto perché Schiller è uno dei punti di riferimento dell'operismo italiano e poi perché come abbiamo già sentito ci fu questo adattamento di Andrea Maffei che era un'altra figura che ha giocato un ruolo decisivo negli sviluppi del melodrama la filiera almeno idealmente va retrospettivamente fatta risalire addirittura Shakespeare lo stesso Maffei nella premessa al suo adattamento alla sua traduzione dichiara che il teatro di Gozzi ebbe grande fortuna in Germania dove veniva considerato degno di quello shakespeariano cui lo avrebbero accumunato e qui cito le parole di Maffei il tentativo di creare un genere nuovo di sceniche produzioni il bisogno di allargare i confini della drammatica e la volontà di rompere il freno delle antiche teorie in questo senso probabilmente una matrice comune era la pluralità stilistica quindi questo contrapunto comico grottesco alle situazioni tragiche Maffei contribuì alla conoscenza in Italia non solo di Schiller ma anche appunto del drammaturgo inglese così come favorì la sua comparsa sulle scene operistiche attenuando i filtri apposti al suo teatro nel settecento fu lui a rivedere il libretto di Piave per il Macbeth di Verdi e fu lui a fornire sempre a Verdi il libretto degli Schilleriani masnadieri il cerchio si chiude se pensiamo al fatto che Maffei pubblicò la sua versione della Turandot proprio insieme a quella del Macbeth quindi Shakespeare Gozzi Schiller sono parte del medesimo orizzonte intellettuale rappresentato da Maffei e poi riversato sul versante melodrammatico la scelta del soggetto di Turanda si inserisce dunque entro un quadro consolidato di rapporti personali poiché Maffei ha avuto stretti rapporti con Gazzoletti i due erano molto amici rapporti poi oltretutto rinsaldati dal comune il redentismo ma questa scelta del soggetto di Turanda si inserisce anche dentro tendenze ben presenti nella produzione operistica italiana degli ultimi decenni eppure resta questa dissonanza causata da una fiaba nel repertorio melodrammatico dell'epoca l'anno dopo la prima rappresentazione Filippo Filippi di cui ci ha parlato Giovanni Polin scrive esplicitamente di un soggetto sbagliato la relazione con i precedenti letterari mostra dunque un duplice atteggiamento da un lato il modello e il condizionamento intellettuali di autori fondamentali per il melodramma italiano come Schiller e Maffei dall'altro l'incongruità del soggetto rispetto alle consuetudini operistiche del medio 800 tale duplice atteggiamento non era un caso isolato in quegli anni 60 nei quali si cercavano vie alternative all'esempio verdiano e alla tradizione precedente così a fianco della turanda possiamo porre certi esperimenti programmaticamente volti a introdurre profondi cambiamenti in genere poi ricondotti all'ambiente della scapigliatura anche se poi i risultati sono stati altalenanti e il più delle volte poco apprezzati pensiamo per esempio ai profughi fiamminghi di Emilio Praga e di Franco Faccio opera del 63 oppure all'Amleto di Arrigo Boito e dello stesso Faccio opera del 65 e poi naturalmente soprattutto al Mephistofele di Boito del 68 al di là dei risultati talora deludenti sotto il profilo innovativo come nel caso dei profughi fiamminghi talora dirompenti Mephistofele ciò che contava era la volontà di distaccarsi dal modello imperante proprio in occasione della prima dei profughi fiamminghi Boito compose una famosa ode nella quale predicava l'avvento di una nuova fase per l'opera italiana e non usava mezzi termini per definire la produzione della sua epoca che avrebbe profanato l'altare dell'arte e scrive Boito bruttato come un muro di lupanare e qui Verdi poi si sente anche chiamato in causa direttamente queste istanze si insinuarono nella vita culturale milanese generando scontri come nel 65 quando Praga viene nominato docente di letteratura drammatica al conservatorio di Milano preferito a Piave il librettista di Verdi oppure rendendo indispensabili delicati compromessi e giochi d'equilibrio Verdi era la punta di diamante della scuderia Ricordi eppure Ricordiane erano anche le opere sopracitate soprattutto quelle di Boito da un lato quindi Casa Ricordi proseguiva la fruttuosa collaborazione con Verdi dall'altro tentava di mettere nel mercato nomi nuovi Turanda invece era di proprietà di Casa Lucca che era il principale concorrente di Ricordi e anche qui da un lato con questo lavoro Lucca patrocinava un tentativo di distacco dall'esperienza verdiana dall'altro si poneva nella scia dei tentativi rivoluzionari di quegli anni cui giovani autori di Ricordi stavano concorrendo se la programmatica volontà di stravolgere l'impianto formale metrico teatrale dell'opera e la relazione con il pubblico alla sua massima espressione in Boito e anche massimi risultati in Boito anche Gazzoletti è piuttosto chiaro nella prefazione al libretto dove scrive tentai una via insolita almeno tra noi la quale seguit da ingegni più felici del mio potrà forse condurre a risultamenti che appaghino insieme le severe ragioni dell'arte e la sete di novità onde è travagliato a di nostri il teatro musicale questa via insolita ha condotto a passare per proposte drammaturgiche assolutamente aggiornate che avrebbero poi trovato ampio accoglimento nel prossimo futuro proprio come auspica Gazzoletti nella prefazione al libretto possiamo anzitutto porre qualche rilievo sull'ambientazione a differenza di Gozi e di Schiller Maffei l'azione è collocata in Persia lo abbiamo già visto e poi il libretto prova a stabilire una certa verità storica sempre a dispetto dei precedenti letterari scrive Gazzoletti l'azione ha luogo in Modaim sul Tigri capitale della Persia prima dell'anno 650 dell'era volgare ossia sotto il regno degli ultimi sassanidi l'inserimento della collocazione storico-cronologica è in linea con le tendenze operistiche dell'Ottocento eppure libri d'azione non convinse almeno stando quanto scritto Antonio Ghislanzoni che in una recensione dice il libretto della Turanda è un assurdo drammatico una fiaba che vuol darsi l'aria di un episodio della vita reale quindi questa declinazione storica poi l'abbiamo anche sentito in alcune recensioni che ha letto Giovanni Polin questa declinazione storica non è quindi stata sufficiente a bilanciare la stravaganza del soggetto anzi forse ha avuto anche degli effetti controproducenti dall'altra parte se nell'ipotesto l'Oriente acquisisce una valenza fiabesca nell'opera l'Oriente diviene esotico nello specifico un esotismo medio orientale indiano questo aspetto pare aprirsi a certe esperienze francesi come quella dei pescatori di Perle di Bizet e qui forse non è un caso che i nomi dei due protagonisti maschili nell'opera di Bizet e nell'opera di Bazzini coincidano nel testo maffeiano l'Oriente accetta le due dimensioni tipiche assunte nel contesto culturale di primo ottocento cioè la dimensione sanguinaria e la dimensione buffonesca nell'opera invece si fa piuttosto riferimento all'immaginario di un Oriente seducente trasmesso dalla letteratura dai resoconti di viaggio dalle arti figurative agli occhi europei uno degli stereotipi della sensualità orientale è l'arem e in effetti Maffei è presente un harem all'inizio del secondo atto ma non viene descritto e non viene neanche inscenato perché lo si immagina oltre una porta un harem non c'è invece nell'opera però certe ambientazioni sensuali e sfarzose a un tempo caratterizzano la messa in scena accendendo l'immaginario dello spettatore per esempio la parte prima dell'opera si svolge cito la didascalia nel tempio del sole sorretto da colonne ghirlandate di fiori stesi nel vestibolo ricchi tappeti divani e intorno vasi con profumi da accendersi a tempo opportuno mentre nella parte terza abbiamo quest'altra ambientazione una sala dei banchetti ricca illuminazione vasi di fiori e tripodi e lampade in tutto lusso e grandezza orientale in Gazzoletti l'Oriente acquista insomma pregnanza e si fa veicolo di atmosfere e sensazioni volte a colpire la percezione dello spettatore vuole ammaliarlo e trascinarlo in un mondo fascinoso e fragrante perché è lussuoso perché è ricco perché è sensuale perché è profumato quindi i fiori i tappeti i divani l'incenso infiammano i sensi del pubblico conformemente alle pratiche operistiche ottocentesche si vuole coinvolgere lo spettatore fargli sentire quei profumi e quelle atmosfere e farlo sentire parte di quell'ambiente per quanto lontano e sconosciuto se manca l'arem proprio nella scena del banchetto troviamo comunque una dunanza maschile intrattenuta da donne sono previste delle suonatrici d'arpa che intonano cito un paio di versi un'armonia di duol dolce feconda che dell'irano all'armonia risponda e che viene concretizzata nella canzone di Adelma e del coro femminile quindi un canto dichiaratamente orientale di pertinenza muliebre e dal contenuto sensuale alcuni versi di questa canzone che viene cantata appunto da Adelma e dal coro femminile durante questo banchetto trattano del gioco erotico fra la rosa e l'usignolo e Gazzoletti qui proprio non pone alcun filtro scrive ad esempio dal dì che in affetto gentil si legaro la rosa non sapre se tace il suo caro l'augello non canta se al vergine seno all'aere sereno non apre il suo fior insomma versi decisamente espliciti questa idea di un esotismo carnalmente erotizzato è destinata a essere molto praticata nell'opera italiana ed è uno degli elementi decisivi grazie ai quali la carnalità del tutto esclusa nella prima parte del secolo viene invece accolta nel repertorio del secondo ottocento in questo quadro si lascia leggere anche il più evidente punto di distacco dalla tradizione operistica italiana ovvero il trattamento dell'eroina opposta all'innamorata che prova un sentimento puro Turanda proclama la propria autodeterminazione rifugge l'ottocentesco modello familiare rifiutando le nozze e la soggezione alla mascolinità rappresentazione di una donna che per l'opposizione ai valori europei dell'epoca era resa accettabile proprio perché è posta in un mondo lontano oppure nella dimensione fantastica eppure un'eroina che presenta caratteristiche cui l'opera italiana stava iniziando a prestare attenzione in quel giro d'anni ponendosi in sintonia con una nuova immagine della donna in via di affermazione e al centro dei dibattiti intellettuali si pensi alla Leonora della Contessa D'Amalfi di Peruzzini e Petrella un'opera del 64 un'opera che oltretutto darà anche lo spunto per un racconto ad annunzi o qualche anno dopo una donna in grado di ammaliare che gioca un ruolo attivo nella relazione erotica cercando di sfruttare il proprio ascendente per ottenere i propri scopi sono i primi accenni nell'opera italiana all'interesse verso nuove tipologie femminili cui viene riconosciuta una vita sessuale non più unicamente rivolta alla procreazione e che nel gioco seduttivo non ricoprono più un ruolo passivo certo prevare ancora l'immaginario coevo perché queste donne vengono presentate nella loro pericolosità e perché alla fine l'uomo riprende in mano le redini della situazione consentendo al pubblico di lasciare il teatro rasserenato questo è quello che avviene sia nella Contessa da Malfi sia in Turanda dove l'atto seduttivo decisivo è prepotentemente in mano di Nadir e segna la sottomissione della protagonista all'amore alle nozze un ultimo appunto concerne la presenza dell'elemento magico sovrannaturale Gazzoletti introduce Ormut che viene definito uno dei supremi magi del regno personaggio creato ex novo lo stesso Gozzi precisa nella prefazione Turandot come la sua opera sia spoglia a fatto del magico mirabile eppure si riscontra questa presenza in altre fiabe di Gozzi il librettista ne approfitta dunque per introdurre un elemento assente dalla Turandot ma comunque riconducibile al suo autore che era lontano dall'estetica operistica italiana della prima parte del secolo e invece ben presente nell'esperienza ultramontane tedesca e francese appunto all'inizio della parte terza arrivo alla conclusione abbiamo una scena di occultismo incentrata su un rituale magico e su apparizioni scene di questo tipo erano piuttosto rare nell'opera italiana le ritroviamo le ritroviamo in certe opere proprio di derivazione shakespeariana il Macbeth ovviamente è l'esempio più la scena delle streghe del Macbeth è l'esempio più evidente però lì emergeva la dimensione grottesca mentre nella Turanda c'è la contesa fra forze celesti e forze infernali la presenza di spiriti benigni e spiriti maligni come poi avverrà nel Mephistoferi di Boito appunto secondo la poetica tanto amata dall'autore anche queste sono puntelli questi sono puntelli di pratiche che diverranno consuete nella produzione italiana degli ultimi decenni dell'Ottocento per assumere poi dei trattamenti molto variegati ecco queste sono un po' alcuni spunti che emergono dalla lettura del libretto non ho parlato delle maschere per il semplice fatto che nel testo di Gazzoletti non c'è alcun riferimento alle maschere proprio perché è un'altra dimensione completamente esclusa dal panorama ottocentesco italiano tant'è vero che Maffei le utilizza le inserisce ma scrive anche una cosa molto significativa qualora si volesse mettere sulle nostre scene la Turandot converrebbe dare altro nome alle quattro maschere oggi di non tollerabili quindi ecco è un po' un'operazione quella di Bazzini e Gazzoletti bifronte da un lato ci sono alcuni elementi assolutamente nuovi che vengono recuperati dalla stranezza del precedente letterario dall'altro lato comunque si tenta di mediare con dei topoi operistici molto diffusi come la musica di scena come la canzone come il banchetto eccetera eccetera probabilmente per raggiungere un certo equilibrio grazie grazie a Giovanni Polini e a Federico Fornoni allora con la prima parte della della mattinata davvero e con la riesumazione della Turanda non così celebre fuori dal così dal campo della musicologia e invece oggetto di grande rilievo per l'acquisizione contrastiva per la la conoscenza generale abbiamo fatto molti passi in avanti allora qui peraltro il nodo Shakespeare Schiller con la compartecipazione di Gozzi ricordando peraltro che anche il tardo Gozzi ha un qualche rapporto con la drammaturgia shakespeariana e poi l'altro tema fortissimo della della fiaba che non che poco fiabesca che è la questione già della della Turandotti di Gozzi credo aprano oltre ad altri temi ed argomenti molto lasciano molto spazio alla discussione e quindi se ci sono interventi possiamo senz'altro procedere con essa ecco credo che di materia per suscitare curiosità interesse e far reagire i nostri ascoltatori ce ne siano in quantità evidente e quindi siamo qui per anche con le difficoltà le distanze della della forma telematica per aprire un po' di dibattito nessuno non vedo chat ecco ecco sì Javier Gutierrez Carou benissimo e poi Susanne Winter quindi tutti e due nell'ordine di iscrizione possono prendere la parola uno alla volta buongiorno mi si sente ok invece io non sento voi aspetto un attimino ti si sente e ti si vede ok e anche io ti sento e ti vedo no io volevo fare soltanto due dire due cosette che sono da tutti sapute ma mi piace particolarmente la tua notte perciò volevo intervenire un secondo per quanto riguarda l'aspetto della fiava senza magia io ricordo anche i pitocchi fortunati che sono che è una fiava particolarmente interessante che è passata totalmente inosservata o quasi finora sono due fiave senza magia molto interessanti e i pitocchi sono anche da mettere in rapporto con tutto il teatro esotico dell'epoca quindi mi sembra che questo fatto del gozzi in rapporto con anche le modernità del teatro del momento le mode sia anche interessante da sottolineare e poi per quanto riguarda la donna che non vuole essere sottomessa all'uomo ricordo che nella Turandot di Gozzi parlo solo di quella di Gozzi di quella che conosco meglio è interessante vedere che a differenza della fonte francese dei Milie un giorno dove non c'è nessuna motivazione Gozzi invece introduce una minima motivazione ma importante e Turandot in un certo momento dice che lei non vuole sposarsi perché gli uomini una volta sposati al poco tempo si annoiano della moglie e frequentano altre donne diciamo di costumi diversi e quindi questo elemento secondo me è importante perché in realtà è un modo da parte di Gozzi di limitare questo desiderio di libertà di non essere sottomessa all'uomo da parte di Turandot c'è sempre un motivo che in realtà è legato al cristianesimo di base di Gozzi non è per niente femminista in nessun modo è molto interessante e poi si ritrova anche in un testo molto interessante di poesia al simulacro di Niove su cui sto lavorando in questo periodo che è un testo di impostazione chiaramente pariniana e in cui critica apertamente i mariti che escono diciamo dalla cassa coniugale e frequentano altre donne al posto di fare quello che deve fare il marito cristiano di stare con con sua moglie e ovviamente di fare i figli semplicemente queste due cosette che mi sembravano un po' interessanti da ricordare per rompere un po' il ghiaccio grazie bene Susanne Winter ciao a tutti siccome sono a Stoccar delle vicinanze di Schiller devo fare dire qualcosa su Schiller e Vertis c'è un piccolo problema perché Schiller non si riferisce nel suo testo non si riferisce direttamente a Gozzi lui ha preso la traduzione di Vertis per fare la sua Turandot e quindi non si può parlare di una traduzione letteraria o diretta dal testo di Gozzi e lì c'è un altro aspetto che cosa che mi pare interessante per tutti i libretti tutti i testi della Turandot che cosa succede con le maschere che cosa fanno gli altri delle maschere di Gozzi Schiller per esempio toglie ogni o quasi ogni caratteristica delle maschere e li fa parlare anche i versi e lì un'altra cosa è la metrica delle lingue germaniche non è quella delle lingue romanze quindi parlare di settenario o novenario nella metrica tedesca non si fa perché sono piedi nella metrica tedesca e si potrebbe parlare di un pentapodia giambico e sempre il verso giambico quindi anche lì si dovrebbe forse differenziare tra la metrica italiana e quella tedesca ma la questione che mi sembra particolarmente interessante è quella delle maschere cosa succede con le maschere nei testi negli adattamenti anche operistiche ma se posso appunto nell'opera di Bazzini proprio le maschere non ci sono perché era un di Gazzoletti insomma perché era un un'esperiente diciamo così totalmente al di fuori di quelle che erano le consuetudini il mascheramento nell'opera italiana esiste ma ha tutt'altra funzione pensiamo non so anche titoli celeberrimi Rigoletto un'opera in cui il duca di Mantova è praticamente mascherato dall'inizio alla fine cioè si fa passare per un'altra persona dall'inizio alla fine o il ballo in maschera anche però hanno appunto il mascheramento ha una funzione completamente diversa viene in qualche maniera chiamato in causa nel momento in cui si trattano argomenti pruriginosi che insomma nella società della metà dell'Ottocento di cui era difficile parlare in pubblico in quegli anni quindi semplicemente Gazzoletti e Bazzini non si pongono al problema e tralasciano questo aspetto ma Fei appunto le inserisce ma scrive quella cosa che ho letto cioè se si volesse portare in scena la Turandot bisognerebbe cambiare i nomi e immagino insomma anche forse un po' la definizione di queste di queste figure se posso intervenire ovviamente una cosa è il tema del del mascheramento cosa che facciamo anche tutti noi più o meno nella vita l'altra invece sono le maschere in quanto personaggi tipizzati a volto fisso naturalmente c'è un declino intermedio delle maschere italiane e poi una rinascita delle maschere col mito della commedia dell'arte per cui in qualche modo poi vabbè Busoni che le mette o Puccini che quantomeno si rimisura con questa cosa tengono presente questo e quindi questo è un movimento di andare e venire dalla storia di quella che chiamiamo il teatro all'improvviso il teatro italiano e poi il mito della commedia dell'arte per le altre questioni è molto interessante nel in questo vagare di Turanda dalla Persia alla Cina o alla China nel Settecento invece forse la distribuzione di quegli elementi che avete opportunamente messo in luce cioè da una parte c'è la sensualità della Persia adesso c'è anche Marzia Pieri che ne sa più di me che ha curato la trilogia persiana di Goldoni e il persiano fa tragicommedia e questo è anche il limite della fiaba per esempio i pitocchi fortunati non credo neanche siano una fiaba anche se stanno dentro a questo contenitore una cosa è la tragicommedia eventualmente con le maschere l'altra cosa è la fiaba che è un principio di infrazione della realtà ora l'infrazione della realtà possono essersi i maghi le streghe le apparizioni tutto questo ambaradan però c'è l'elemento brutale e sanguinario che sta insieme al buffonesco come avete detto cioè in fondo cosa c'è di fiabesco nella Turandot il fatto che questa signorina fa tagliare teste a Iosa di personaggi come facciamo a perdonare Turandot a reinserirla questo non è tragicomico e questo è un elemento che secondo me sta dentro il contenitore fiabesco anche se non ha gli elementi del magico e delle altre cose che fanno fiaba ci sono altri sento la voce di Marzia forse no qualcun altro vuole intervenire sono Anna Laura mi senti Anna Laura certo benissimo voglio dire che tutto sommato Gandarte corrisponde a Brighella perché è il capo delle guardie ma è muto è un personaggio muto c'è un fiata mai quindi questa negazione delle maschere che mi pare ovvia anche il filler è naturalmente ed è ormai già superata anche dallo stesso Goldoni sì in qualche modo poi va e viene come dicevamo ieri con con gli nell'opera superata dallo stesso Goldoni e non solo ma stesso Goldoni che molte volte si occupa di emancipazione femminile e soprattutto nel e anche di soprattutto per esempio nel re alla caccia e se ne occupa anche nel talismano che a leggerlo con una certa attenzione sembra un po' il flauto magico perché ci sono alcuni elementi comuni le prove la vecchia che è in realtà la giovane eccetera eccetera quindi alla fine diciamo già dalla fine del settecento nell'opera italiana le maschere non ci sono e non ci sono nemmeno quei tipi fissi che si potrebbero ricondurre volendo alle maschere il servo sciocco il servo intelligente e così via fine sì sì non ci sono nell'opera nell'opera comica e poi sarà l'opera del novecento che 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 non ci sono le cose che non le apparteneva di fatto sì sì perché se penso ai libretti di Goldoni non so l'Arcadia in Brenta c'è la maschera in quanto c'è uno che si traveste da Pulcinella per fare un'operina in campagna insomma e quindi siamo come dicevamo nel secondo atto loro recitano e recitano a seconda dei ruoli che hanno caricato sul potere del travestimento del mascheramento e non della della maschera come condizione di di appartenenti di insomma fisica l'Arcadia in Brenta è 40 anni prima del talismano certo benissimo ci sono altri interventi allora mi è piaciuta moltissimo la prima parte della della mattinata intorno a Turanda adesso passiamo alla seconda non meno interessante e partiamo con in realtà abbiamo un po' mescolato l'elemento puciniano con l'elemento per l'ordine di apparizione ma rispettiamo la locandina Teresa Megale persistenze novecentesche e la pausa la pausa caffè Pier Mario come volete allora se volete facciamo una pausa caffè altrimenti andiamo dritti io sarei per andare dritti nel senso che vedo che l'ora è buona e questo ci permette forse di finire un po' prima e poi di avere un lasco più ampio rispetto alla ripresa pomeridiana anche per contro la pausa caffè perché mi tocca farmelo sì no ecco poi appunto la pausa caffè ognuno si fa il caffè per gli affari suoi cosa che potete fare in ogni momento alzandovi un attimo e non potendovi offrire un caffè come sarebbe giusto ho fatto anche uno un contegno docente telematico dove c'era il brindisi ognuno col suo bicchiere di vino mi pare una cosa un po' un po' eccessiva cosa facciamo continuiamo buon caffè ecco c'è Gilberto che beve il caffè di famiglia bene allora continuiamo Teresa Megale ho già letto il titolo però spegnete i microfoni di chi non sta parlando bene allora Teresa Megale ci parla di persistenze novecentesche più vandotte 1926 Teresa insegna sulle pratiche dello spettacolo c'è un rumore di fondo impressionante allora stavo ricordando brevemente due note su Teresa Megale che insegna teoria e pratica dello spettacolo e analisi critica dello spettacolo presso l'università di Firenze specialista della commedia dell'arte di storia degli attori si è occupata di drammaturgia tra seicento e novecento della locandiera in sé con l'edizione nazionale fatta insieme a Sara Mamone ma anche sulla fortuna della della locandiera in generale del personaggio femminile ricordo volume donne nel teatro italiano nodi storici pratiche d'arte e di vita del 2019 e almeno tra i suoi tantissimi il libro Tra mare e terra commedia dell'arte nella Napoli spagnola che sono tra i suoi saggi più recenti mi taccio e le lascio la parola grazie grazie per Mario grazie molto per questo invito sia a Pier Mario sia a Mariaida Biggi e chiaramente a Nicola Pasconicchio inizio con mi vedete tutto chiaro sì posso sì grazie scusate un attimo un attimo di terrore allora eccomi qui ricomincio a parlare a questo punto di Turandot non più Turanda ma Turandot Turandot che ha una lunga fortuna scenica nel novecento che conosce una lunga persistenza sui teatri di prosa e sui teatri lirici una persistenza storicamente molto significativa se si considerano le poche apparizioni ottocentesche ricapitolate nelle comunicazioni che mi hanno preceduto allineare le fonti contemporanee sulla principessa cinese su quella che Carlo Gozzi definiva tigre e definiva Barbara crudele è un esercizio che potrebbe suonare addirittura superfluo in un convegno dedicato al conte drammaturgo veneziano in realtà ripercorrere seppur brevemente il particolare successo di Turandot almeno il primo novecento significa riattivare la memoria scenica di una materia drammaturgica che per ragioni diverse sembra assurda pian piano a stabile icona per buona parte dello spettacolo del secolo storiograficamente breve significa anche interrogare i momenti storici in cui cadono le riprese e in cui cade il rilancio della favola settecentesca e cercare di comprendere quali nuovi significati l'originale assuma alla luce dell'attualità storica si potrebbe dire che il teatro europeo del primo novecento sia stato come solcato da Turandot personaggio che assunta per via di prassi scenica la potenza di un archetipo si è incarnato tanto in prosa quanto in lirica prevalentemente nell'area tedesca in Russia e poi in Italia il processo complesso e affascinante di migrazione e di circolazione dello spettacolo si diparte dai pochi precedenti ottocenteschi prima ricapitolati come è già emerso nella ricca relazione di Carmelo Alberti che abbiamo avuto modo di ascoltare ieri Turandot si impone soprattutto sulla scena berlinese nel 1911 con la versione di Max Reinhard allestita su musica di Busoni da qui riattraversa il teatro russo con la messa in scena di Vaktangov che si vide al teatro d'arte di Mosca circa un secolo fa nel febbraio del 22 divenuta prestissimo una pietra miliare del teatro di regia e del recupero in forme mitopoietiche della commedia dell'arte Turandot personaggio ineludibile per i maestri inventori della regia come ha già detto Alberti nel 23 conquisterà la scena del più Colombier con Coco prima a Bruxelles e poi a Parigi alla regia berlinese di Reinhard si rifece dunque Cuccini però quando nel 20 accolse la proposta di Renato Simoni di comporre un'opera sulla fiaba di Gozzi a ben guardare dunque la fortuna novecentesca europea di Turandot precede e segue il primo conflitto mondiale ovunque accompagna con il suo volto enigmatico il crescere impetuoso dei totalitarismi in Italia ad esempio la problematica composizione del libretto scritto da Adami e da Simoni per Cuccini tra 1920 e 1924 si situa significativamente dentro i primi anni del fascismo rispetto al personaggio cucciniano non a caso Gerardo Guccini in un saggio uscito nel 2015 sulla rivista Italogramma ha parlato di Turandot nera rilevando nella tessitura del libretto e nel clima generale dell'opera alcuni riflessi chiari della dittatura musoliniana entro cui cresceva la difficile e tormentata composizione dell'opera di cui spero di occuparmi nella parte scritta del convegno potremmo spingerci oltre e sostenere che Turandot un po' ovunque sotto il peso della sua ottusa crudeltà sotto il peso della sua patologia omicida e sotto la sua spietata vendetta verso gli uomini motivo sconosciuto a Gozzi perché come prima richiamava Javier si tratta in Gozzi è il motivo delle insedeltà dell'uomo che spinge Turandot a risultare qualunque pretendente ebbene dicevo potremmo spingerci a sostenere che Turandot un po' ovunque incarni la banalità del male e la incarni in modo davvero speciale ha scritto Roberto Alonge in un saggio del 2006 che Turandot incarna la censura del desiderio ma non si è fermato qui la censura del desiderio di liberarsi dalla repressione una repressione che evidentemente non è solo erotica ma è repressione politica nello stesso tempo il fiabesco dunque è l'orientalismo come ha dimostrato per tempo Alberto Beniscelli o meglio il fiabesco di marca orientalistica sono gli ingredienti drammaturgici che da una parte trattengono l'impronta e i riflessi dei totalitarismi incipienti in Europa lo stalinismo in Russia il nazismo in Germania il fascismo in Italia dall'altra partecipano al rilancio della mitopoiesi intorno alla commedia dell'arte al clima di riscoperta e di rivalutazione delle nostre maschere molte sono peraltro le letture che la critica musicologica ha riservato alla turandotte pulciniana molte e tra loro controverse per alcuni è la risposta alla crisi del teatro operistico per altri è indicativa della crisi stessa in cui era immerso il teatro operistico italiano giunto alla fine della sua luminosa parabola artistica per altri ancora è opera modernista che tuttavia non riesce fino in fondo a rinnovare il linguaggio musicale rimanendo stancamente ancorata a criteri mimetico rappresentativi può andare la prima slide grazie a tali contrastanti letture occorrerebbe poi accostare quelle delle messe in scena messe in scena la storia teatrale delle regie della turandotte pucciniana è storia complessa almeno quanto lo è quella della protagonista la fiaba goziana di ascendenza persiana proveniente dalla raccolta Sette bellezze di Nizami è stata interpretata ad esempio in tempi recenti come fiaba cosmogonica da Roberto De Simone regista che curò l'allestimento per il risorto Petruzzelli di Bari nel 2009 una chiave interpretativa di grande forza il contrasto tra turandotte e calaf consisterebbe nel contrasto tra il mondo lunare e quello solare e il loro amore coinciderebbe con l'unione cosmogonica della notte con il giorno nell'opera incompiuta Turandotte fa uccidere uno ad uno i suoi pretendenti incapace di risolvere i tre enigmi al calar della sera mentre nella raccolta le mille e una notte è all'alba che scintilla la lama del boia turandotte rappresenta dunque il mondo femminile lunare nella tessitura favoristica ostile agli uomini per la violenza subita da lowling sua ava mille mille anni prima come dice il libretto e questo motivo è motivo assolutamente sconosciuto a gozi turandotte incarna la vendetta contro la violenza degli uomini ed usa tutto il suo sapere nel formulare enigmi come la sfinge è enigmatica come la sfinge è impenetrabile faccio notare che i tre enigmi che turandotte propone a calaf e propone ad ogni suo pretendente sono il luogo drammaturgico della varianza perché ciascuna turandotte che conosciamo varia questo pezzo è un luogo in cui qualunque allestitore qualunque drammaturgo si esercita turandotte è personaggio femminile fuori misura il suo potere eccezionale non è solo potere regale è soprattutto potere sapienziale e ricca di sapienza turandotte dalla sapienza riesce a far scaturire queste prove di ingegnose che sono gli che sono gli enigmi il suo potere eccezionale però converge verso la crudeltà totale è una monade psichica del male ed è l'unica protagonista del teatro operistico italiano che non muore per amore ma al contrario somministra lei la morte l'opera cuciniana incompiuta è stata sottoposta a meticoloso scandaglio critico da parte di autorevolissimi musicologi a queste analisi musicologiche si possono aggiungere alcuni reperti visivi inediti che rendono esplicito lo spettacolo inaugurale allestito a due anni dalla morte del compositore alla scala di Milano il 25 aprile 1926 e diretto da Arturo Toscanini possiamo andare con la slide successiva grazie lo spettacolo ebbe la regia di Gioacchino Forzano che era stato a sua volta librettista per cucini sia dello Gianni Schicchi sia di suor Angelica della prima assoluta scaligera sono emersi da un baule appartenuto al soprano Iva Pacetti due costumi di Turandot due costumi completi completi anche degli accessori di scena i due costumi erano stati creati da Caramba e realizzati dalla Sartoria milanese e da lui diretta la slide due per cortesia grazie l'enigmatica turandotte pucciniana intorno alla quale si addenza un intrico di documenti epistolari e tracce piene di contraddizioni trova negli inediti costumi di scena nuove fonti per la comprensione della messa in scena e della ricezione dell'opera i due costumi acquisiti dal museo del tessuto di Prato come tutti i costumi di scena sono uno straordinario deposito memoriale dello spettacolo questo che vediamo che abbiamo sotto gli occhi è il costume per l'atto secondo entrambi i costumi reclamano uno spazio conoscitivo proprio una indagine storico spettacolare storica artistica ma anche un'analisi tecnica specialistica sul manufatto non sono infatti solo il correlativo visivo della scenografia della vocalità della recitazione della mimica della cantante ma svolgono una funzione visiva altamente denotativa e autonoma i costumi aprono uno squarcio sullo spettacolo non più boccale vuoto allineato sul bancone del tempo per citare un'immagine come al solito efficace di Ripelino ma solo un'immagine assolutamente parlante il costume è da considerare una macchina per la voce e per la mimica in cui circolano letteralmente il respiro la vocalità i gesti e le emozioni di chi è in scena ha dunque una delicata funzione preventiva sorregge il personaggio e lo anima molto prima che si configuri a scena aperta è un'astrazione che si fa congegno materiale visivo che agglutina e condensa le varie parti dello spettacolo canto recitazione scenografia luci movimento scenico convergono sul costume e ne rilanciano il senso in quanto il costume attiva la percezione collettiva del pubblico la condiziona e la direzione nel costume si sintetizzano le idee registiche la poetica dell'impianto scenico complessivo nel costume si stratifica la lettura interpretativa dell'opera si iterano i simboli e si tramutano in luoghi comuni in tradizione in convenzione scenica il rapporto dialettico con la scena i costumi rappresentano però sempre uno scatto sono strettamente e poeticamente connessi con lo spettacolo ma nello stesso tempo se ne distaccano vivendo in modo più o meno esplicito di richiami e di legami con l'arte a loro contemporanea catturano gli sguardi perché questa è una mia forte idea come il teatro sono metastorici anzi rilanciano la metastoria come categoria della scena per questi motivi possiamo ritenere il costume una sorta di montaggio delle attrazioni in quanto partecipa del clima generale dell'ambientazione dello spettacolo ma nello stesso tempo riesce a travalicarlo vorrei la foto la slide numero 3 anche quella numero 4 ecco benissimo grazie ecco in questo particolare del costume della prima turandotte 1926 apparso nel bau dal bau di Iva Pacetti consegnato al museo del tessuto di Prato dove c'è stato da un anno ci sono stati lavori di restauro su questo costume e sull'altro che poi vedremo ecco vedete nella manica di Turandotte una mitologica fenice riprodotta su questa manica trapezoidale che allude molto chiaramente a Liberty ora bisognerebbe anche parlare di questa manica che a me pare tanto una manica cosiddetta ad acqua che è molto diffusa nel teatro orientale e che consente poi un gesto molto fluido a chi indossa questo abito ma non ho avuto modo per i motivi che sappiamo di vedere dal vivo il costume quindi quindi non posso dire altro su questo posso però dirvi che facendo un'indagine sull'arte Liberty di questo periodo ho trovato anche con molta facilità un figurino dell'uccello di fuoco di Stravinsky il cui abito è addirittura pieno di tante fenici e fenici in volo questa non è una fenice normale è una fenice in volo vorrei far vedere la prossima slide chiedo alla regia aiuto eccolo qui il costume per il balletto di lucello di fuoco Parigi 1910 che fu poi indossato da Tamara Carsavina l'oriente della principessa crudele viene affidato in tal caso da Caramba all'evocazione della fenice in volo più araba che cinese lo sappiamo ma la filologia non ha mai fatto spettacolo le piume svolazzanti della fenice sul braccio di Turandot che abbiamo visto poco fa per nulla casuali che accompagnavano i gesti predittivi e autoritari del crudelissimo personaggio venivano riprese poi dalle piume di struzzo inserite nella corona la prossima immagine grazie qui siamo in un'altra immagine va benissimo ecco vedete questo è a sinistra il figurino che Caramba disegna del personaggio con queste enormi maniche che reputo ad acqua e questa è la realizzazione del costume indossato per la prima volta dal soprano polacco Rosa Raissa eccole le piume di struzzo che arricchivano la corona e l'inedito che la storia ci ha conservato è appunto giunto a noi ed è stato recentemente restaurato posso avere l'altra immagine grazie eccola qui la corona della principessa Turandot corona copricapo sembra un copricapo di un principe indiano che rende il personaggio una sorta di idolo liberty e che occhieggia l'uso coevo che il teatro di varietà faceva di queste piume realizzata come tutti i gioielli da artisti geniali come i milanesi Corbella la corona di Turandot venne indossata anche da Maria Callas la stessa corona questa stessa corona venne indossata da Maria Callas nell'allestimento pucciniano del 1957 visto alla scala di Milano prego la prossima immagine eccola la nostra Callas con l'identica corona che aveva soltanto al posto delle piume delle piccole decorazioni molto più molto più delicate ecco la corona diventò un tratto assai pertinente fortamente qualificante del costume e quindi del personaggio nel costume del primo atto invece un lungo spillone possiamo andare avanti con la prossima slide un lungo spillone attraversava la capigliatura quando Turandot muta appariva come una statua di gelo dall'alto degli spalti della città di Pechino a sovrastare la folla di sudditi spaventati letteralmente da morte e traumatizzati dal cupo suono del gong qui il costume superstite limitato solo alla sopravveste affoggio a di kimono è riscontrabile nella descrizione degli inventari del teatro alla scala lo vedremo la prossima diapositiva grazie ecco e questo il costume del primo atto anche questo un inedito con cui la Turandot pulciniana apparve in quella sera magica del 25 aprile del 26 il costume del terzo atto della Turandot pulciniana era l'unico finora posseduto da noi conservato nella collezione privata torinese della valle vediamo il costume del terzo atto grazie questo in particolare il costume precedente ecco questo il costume del terzo atto di cui vi dicevo era l'unico che possedevamo prima del ritrovamento fortunoso e fortunato dei due costumi di cui vi ho parlato finora qui si notano questi draghi che avvolgono come prima la finice la spalla e le braccia dell'interprete insieme alle nuvole stilizzate e motivi decorativi del bordo in cui sono evidenti richiami alla figuratività cinese o meglio all'idea che il primo novecento dai palcoscenici italiani elaborava della figuratività cinese con Turandot si fissa un canone figurativo occidentale nei confronti della Cina nel quale rifluiscono forti influenze settecentosche grazie al ritrovamento dei due costumi appena restaurati che saranno prossimamente si spera visibili in una mostra siamo adesso in grado di ricostruire la serie completa quindi dei costumi indossati dal soprano polacco Raisa così come apparvero agli occhi degli spettatori scaligeri la sera del 25 aprile del 26 avanti con un slide grazie ecco la serie completa a questa serie possiamo accostare i costumi almeno di Calaf per un fatto di completezza quindi il protagonista è Calaf foto successiva grazie ed anche quello delle tre maschere gozziane di cui abbiamo discusso nel libretto ribattezzate ping pong pang ping pong pang che avanti con la prossima slide che sono come vedete degli abiti con tagli e motivi decorativi orientaleggianti che si combinano però molto con soluzioni decisamente deco sono le vecchie maschere gozziane lo diceva prima Pier Mario Vescovo e ne abbiamo prima parlato ridotte ormai a ministri della guerra come voleva il libretto di Simoni e di Adami ridotti a ministri della guerra loro stessi nel libretto dicono di essere ridotti a ministri della guerra e lo stesso Fuccini in una lettera da Adami sull'argomento diceva cito la lettera è inviata da Adami ed è del febbraio 1920 non abusate coi mascherotti veneziani quelli devono essere i buffoncelli e i filosofi che qui e lì puntano un lazzo e un parere ben scelto anche il momento ma non siano degli importuni dei petulanti ecco dunque i serbi del boia i ministri del boia furono apparvero con questa foggia dopo la prima assoluta scarigera a distanza di pochissimi giorni ci fu l'allestimento del teatro dell'opera di Roma e qui la prossima slide grazie qui il soprano è Bianca Scacciati che veniva sostituita nel cast alternativo da Iva Pacetti Iva Pacetti una cantante ventisettenne che Arturo Toscanini scelse e portò con sé alla scala e che fece debuttare in Aida Iva Pacetti aveva cito dal dizionario biografico degli italiani una voce salda e sicura nel centro coronato da un registro acuto incisivo e penetrante uno stile improntato ad un'evidente drammaticità ma sapeva sfoderare anche un fraseggio acceso e un canto appassionato legato al gusto verista vorrei la prossima slide grazie e qui la vediamo nel ruolo cuciniano di Tosca nel ruolo del titolo peraltro due immagini di lei in Tosca ma cantò anche il mini nella fanciulla del West e prossima foto la vediamo negli amatissimi ruoli verdiani Aida con cui debuttò e Leonora il trovatore il soprano turandotte inumorevoli volte sicuramente nella stagione 1937-38 in sostituzione di Gina Cigna qui la foto con Gina Cigna grazie nell'allestimento del teatro dell'opera di Roma poi Vapaccetti ritornò a Turandotte nel 38-39 per ben due edizioni estive alle terme di Caracalla con i costumi di Benoit infine nel teatro Massimo Romano nel 43-44 e ancora una volta nel 44-45 con i costumi di Mario Cito Filomerino avanti grazie ecco questo è il costume di Cito Filomerino indossato dai Vapaccetti il costume del teatro dell'opera di Roma è eloquente del clima duro di quel torno di anni gravati dalla guerra il pesante rosso che avvolge il corpo e la svastica nera ben in evidenza tra i motivi decorativi restituiscono una principessa di stampo neomedievale partecipe della storia una principessa poco fiabesca e pochissimo orientale Iva Pacetti affidò la sua uscita di scena a Turandot nella stagione 46-47 a dimostrazione di quanto quel ruolo così lontano dalle convenzioni fosse centrale per lei come per altri soprani che tramite il personaggio di ascendenza gozziana tendevano ad emanciparsi dei ruoli prettamente melodrammatici riservati alle cantanti probabilmente Iva Pacetti volle salutare il pubblico con il costume di caramba dell'edizione scarigera per questo forse acquistò il costume da caramba e per questo si è ritrovato custodito in un suo baume l'ultima slide grazie è solo una supposizione che attende conferme documentari e molte verifiche di fatto il costume della prima scarigera doveva aver accresciuto il suo valore simbolico era entrato a far parte esso stesso del personaggio che aveva invaso i repertori della lirica e in parte residuale anche della prosa era il costume un medium attraverso il quale esaltare la voce cantante e potenziare le movenze dell'interno ma conteneva anche nelle sue fibre e nelle sue parti la memoria di chi lo aveva abitato fino ad allora a saper ben guardare e a saper interrogare simili ritrovamenti dinanzi agli occhi ci appare dunque il do vecchio e la sua memoria forse meno labile grazie e grazie molto alla regia della Cini che mi ha aiutato nella proiezione delle immagini ringraziamo Teresa Megane tra appunto questo percorso nei costumi nell'immaginizzazione vedo che sta ancora parlando però no no non sto parlando ti vedevo in movimento ecco allora stavo ringraziando Teresa per questo intervento tra appunto questo prezioso ritrovamento e il discorso più ampio sull'immaginazione attraverso il costume ma anche abbiamo toccato la questione della psicanalizzazione parallela a quella di anch'io dico Edipo toccata Turandot che è un altro affare del novecento allora procediamo diamo la parola adesso ad Andrea Fabiano Andrea Fabiano insegna letteratura e culture italiane alla Sorbonne a Sorbonne a Sorbonne Université dove codirige il programma di ricerca Initiative Theater la cui figurina il cui logo peraltro è sulla locandina del nostro convegno essendo tra gli enti patrocinatori si occupa di opere di teatro italiani dell'età moderna con particolare attenzione alle relazioni tra Italia e Francia l'ultimo volume edito nel 2019 il Dictionnaire Goldoni o Goldoni alla francese codiretto con Lucie Comparini ci parla dell'adattamento e la regia di Turandot di Jean-Luc Lagars per il teatro per il teatro della roulette l'inizio di un'avventura professionistica ecco Lagars ormai è morto da 25 anni e quindi anche lui sta entrando nella storia morto giovane non sapevo nulla di questo ma credo come me moltissimi altri del fatto che Lagars ha toccato anche la Turandotto di Gozzi e quindi ascoltiamo con grande interesse grazie grazie Pier Mario allora roulette e non roulette anche se le cose possono andare insieme nel caso purtroppo di Lagars di quella generazione di artisti che è stata falcidiata dall'AIDS perché questo questo incontro con Lagars ecco quello che mi interessava è vedere come il giovane Lagars fonda il teatro della roulette con degli amici dell'Accademia d'Arte Drammatica di Besançon dove sta studiando filosofia all'università quando ha 21 anni quindi nel 1978 e la compagnia rimane una compagnia amatoriale fino al 1981 quando diventa professionista e da lì inizia per Lagars ma anche per gli attori della compagnia una attività diversa con dei successi e degli insuccessi testimoniati dall'avventura professionale in quanto drammaturgo e regista di Lagars come ricordava Pier Mario Jean-Louis Lagars muore nel 1995 1995 a 38 anni dopo 8 anni di malattia a causa dell'AIDS paradosso della storia il 95 è l'anno in cui comincia con successo la triterapia che permetterà a molti malati di AIDS di sopravvivere fino fino ad oggi ecco Lagars piccola parentesi prima di affrontare il tema è ormai in Francia un autore classico è l'autore il drammaturgo francese più rappresentato il drammaturgo francese contemporaneo più rappresentato e più tradotto diciamo che nella simbologia francese la sua ufficializzazione in quanto canone e classico è avvenuto con il fatto che le pièce di Lagasse fossero nel programma del concorso di accesso all'insegnamento del secondario e quindi abbiano in qualche modo diffuso anche all'interno del sistema scolastico la sua drammaturgia l'altro elemento naturalmente è il film di Xavier Dolan Just la fin du monde che riprende una delle ultime pièce di Lagasse che nel 2016 vince meditatamente secondo me a Cannes ecco cosa mi interessa nel giovane Lagasse che vediamo qui 23enne il fatto che nel momento di cerniera della sua carriera vale a dire nell'agosto dell'ottanta l'ultimo anno in quanto amatore e nell'agosto dell'ottantuno primo anno in quanto professionista la gas è questo qui sulla sinistra mette in scena adatta e mette in scena i nostri due fratelli nemici vale a dire Carlo Goldoni nell'ottanta e Carlo Gozzi nell'ottantuno in particolare nell'agosto dell'ottanta la gas sceglie di adattare l'adattamento è semplicemente una riduzione del testo l'impresario di Smirne di Goldoni la scelta per quanto riguarda questa commedia goldoniana è sicuramente da ritrovare nella dimensione chiara di metateatralità metateatralità che ritroveremo anche nel modo in cui la gas adatta la turandotte di Carlo Gozzi lì in modo molto più deciso l'allestimento dell'impresario di Smirne avviene in questo cortile è il cortile del palazzo Granvel di Besançon un cortile che è sede del palazzo di cui c'è il museo cittadino di Besançon quindi è al cuore della vita culturale della città e vedete come l'architettura di questo cortile da un lato possa richiamare i corrali spagnoli ma allo stesso tempo anche quel cortile di palazzo rinascimentale in cui nasce in qualche modo il teatro occidentale moderno e cortile come luogo quindi di incontro di quella che è una festa cittadina uno spazio di festività nel nostro caso una festa cittadina estiva siamo nel 1980 agosto in un luogo di aggregazione sociale e culturale una città come Besançon che negli anni Ottanta è il prototipo di una città di provincia che vive grazie all'industria Peugeot quindi all'industria automobilistica tra l'altro gli stessi genitori di Lagasse erano due operai all'interno dell'industria Peugeot ecco in questo spazio l'allestimento di Lagasse una compagnia di giovani amatoriale è estremamente povero abbiamo qui uno schizzo autografo di Lagasse che rappresenta quello che è l'organizzazione quindi dello spazio scenico una pedana posta all'interno del cortile e una dimensione quindi di scena estremamente ridotta Lagasse precisa queste sono le sue notte manoscritte precisa la l'organizzazione del decoro come vedete la tenda che si vede nella fine dovrebbe essere il fondale di una tenda di teatro e poi in mezzo alla scena diversi oggetti scenici che servono è importante questa frase finale che mescolano quelli che sono chiamiamoli gli oggetti degli attori e gli oggetti della tragedia che deve essere rappresentata la dimensione poi che emerge da questo allestimento povero ci sottolinea nuovamente l'idea di una metateatralità che è quella dei comici girovaghi della commedia dell'arte così come negli anni 80 l'immaginario francese ancora nutriva questa è la distribuzione che Lagasse realizza e quello che voglio farvi notare è il modo in cui Lagasse interviene anche come attore eccolo qui Jean-Luc Lagasse il personaggio che interpreta il conte Lasca vale a dire proprio il personaggio di colui che media le vicende dei giovani cantanti che stanno cercando di essere assunti da un impresario orientale e che poi non finiscono non riescono ad essere assunti ma grazie alla buona volontà di mediazione del conte Lasca arrivano a costituire insieme in chiusura della commedia goldoniana una compagnia a carato vuole a dire una compagnia cooperativa così come il teatro della roulotte diventa alla fine di questa stagione estiva una compagnia di carattere appunto cooperativistico come molto spesso accadeva in quegli anni ecco l'anno seguente la gas lavora sulla torandotte e il personaggio chiave di questo interesse italiano del giovane Jean-Luc Lagasse è sicuramente l'attrice Mireille Erb Erb Stemeyer che vedete qui rappresentata non certo all'età in cui recitava insieme alla compagnia della roulotte per quale motivo è lei il perno centrale perché Mireille Erb Stemeyer era una diplomata aveva una laurea in lingua e cultura italiana all'università di Besançon ed è lei quindi sicuramente che fa il tramite tra la cultura settecentesca italiana e Lagasse ed è sicuramente poiché testimoniato dalle note di regia e della traduzione a realizzare la traduzione della turandotte di Goldoni ecco avete qui di fronte agli occhi quello che è il carnet degli appunti di Lagasse conservati al fondo Lagasse dell'IMEC vicino a Con quindi gli archivi dell'edizione della letteratura contemporanea luglio e agosto 1981 turandotte tratta come vedete nell'adattamento di Lagasse dal libretto pucciniano e dalla turandotte di Carlo Gozzi realizzata da Erb Stemeyer quindi Lagasse non si serve della traduzione ottocentesca probabilmente irreperibile all'epoca di cui ci ha parlato Françoise de Coisette ieri ma lavora diretto contatto con l'attrice e mi sembra anche questa una modalità in cui riconosciamo un procedere delle nostre compagnie settecentesche in cui molto spesso le pièce straniere venivano mediate attraverso la traduzione di uno degli attori degli attori della trutta ecco estate 1981 il teatro della roulotte è diventato un teatro professionista vi ricordo che il 21 maggio 1981 François Mitterrand è eletto Presidente della Repubblica e Jack Long nominato Ministro della Cultura si apre quindi quella che è la grande stagione dell'investimento culturale francese con una politica di decentralizzazione e di finanziamento del teatro degli spettacoli come si dice in Francia du spectacle vivant quindi una possibilità che permette a delle compagnie e degli autori come la GAS quindi di poter decidere di investire la carriera non nella ricerca universitaria la GAS aveva cominciato una tesi dottorato ma invece nell'attività teatrale in quanto in quanto professionista la possibilità quindi offerta dai finanziamenti dei servizi culturali e regionali permette alla GAS di organizzare una serie di attività ma è interessante che ancora una volta sia una piessa italiana settecentesca la nostra tour and dot che viene messa in gioco sì nel quaderno di appunti abbiamo le due fonti libretto pucciniano e la pièce di Carlo Gozzi in quello che è il dattilo scritto finale quello depositato alla società degli autori drammatici dalla GAS come vedete il riferimento è solamente a Carlo a Carlo Gozzi siamo nell'estate del 1981 l'oiseau vert di Besson sarà rappresentato nel 1982 quindi non abbiamo neanche diciamo un effetto di traino legato a quell'esperienza bessoniana di cui ancora una volta Françoise ci ha parlato ci ha parlato la scelta la scelta di la GAS quindi è una scelta discussa all'interno della compagnia e ancora una volta vedremo attraverso le modalità di allestimento legata a una volontà metateatrale come lavora la GAS lavora a partire dalla traduzione di Mireille Abstermeyer questo è il manoscritto della traduzione su questa traduzione la GAS commenta attraverso lo vedete questi tra di penna viola sottolinea annota il testo in questo caso addirittura fable tragicomique sono gli elementi che gli interessano proprio per estrapolare la forte metateatralità della pièce e anche in questo caso la procedimento di lavoro di la GAS è analogo a quello che noi troviamo nei nostri autori cioè procede a un'ossatura in cui a partire dal testo di Gozzi tradotto riadatta la sua il Gozzi e il libretto di Puccini in quella che è un'ossatura della sua Turandotte l'allestimento avviene nello stesso spazio quindi siamo in questo ambito alquanto limitativo ma che la GAS riesce a utilizzare in maniera particolarmente opportuna direi che gli permette ancora una volta di costruire uno spazio particolare e in particolare dimostro la visione dall'alto del Palais Grand Vell perché l'allestimento di la GAS giocherà molto sulla verticalità della costruzione ecco qui il bozzetto che dettaglia quello che è l'apparato scenografico avete i personaggi ridotti sui quali torneremo la figura di Turandot al centro e in particolare notate come nell'idea di la GAS la figura di Turandot si è proiettata fino al secondo livello del Palazzo Grand Vell vedete le finestre e vedete l'idea al centro simbolica della costruzione di di la GAS sulla quale torneremo torneremo più avanti riduzione dei personaggi riduzione dei personaggi che tiene in conto già quella operata nel libretto di Puccini ma che agisce ancora di più nella dinamica di una forte sintesi e che ci permette di introdurre quello che è il cuore dell'allestimento e dell'adattamento di la GAS vale a dire la Turandot è uno spettacolo circense è organizzato all'interno della pista di un circo e quindi abbiamo un doppio livello quello che interessa la GAS è la rappresentazione che c'è nella Turandot di Gozzi il modo in cui la costruzione degli enigmi e della tensione drammatica sia una tensione rappresentativa i personaggi quindi sono adattati in una logica cercense abbiamo i garçons de pista che rappresentano il coro del popolo Goziano e del libretto puciniano i quali intervengono in modo pantomimico per preparare la scena ma allo stesso tempo si alternano in alcuni ruoli corali tra dei momenti della della pièce abbiamo naturalmente Turandot che rimane in quanto Turandot il principe quindi Calaf che diventa un domatore la simbologia sembrerebbe essere triviale quindi il domatore che doma Turandot vedremo come in realtà Lagasse non giochi assolutamente su questo aspetto e poi abbiamo altre due figure Messie L'Ualial e il clown che traducono Barak naturalmente e Pantalone e Tartaglia quindi ritroviamo la dinamica delle maschere che in questo caso sono cristallizzate in due maschere da circo il clown e Messie L'Ualial che è colui che dirige le attività del circo su questo Messie L'Ualial torneremo naturalmente dopo abbiamo quindi una funzione che è quella delle maschere goziane ma è anche quella di ping pong pang senza la dimensione di crudeltà che ping pong pang avevano nel libretto nel libretto pucciniare e poi la jeune figlia la jeune figlia che rappresenta la zelima di Gozzi e la liu del libretto pucciniare quindi la parte più melodrammatica della dell'intreccio della fiaba la distribuzione dei personaggi principali è questa come vedete la Mireia Estemaia la traduttrice recita nel ruolo della jeune figlia avete un solo attore maschio François Berreur che sarà un amico che accompagnerà la gas in tutta la sua avventura e ancora oggi serve a vitalizzare la produzione di la gas e poi Bernadette Bonaventure che interpreta a Tuando e altre due attrici che fanno il clown e Monsieur Loyal quindi un travesti rovesciato rispetto rispetto alla tradizione ecco la dimensione dicevamo del del circo ritrova anche una componente musicale non c'è nella musica di scena nessuna allusione alla musica dell'opera cuciniana avete la sinfonia funebre trionfante di Berlioz e quello che è più interessante naturalmente da un lato la musica di Nino Rotta tratta da il film La strada di Fellini del 1954 che richiama naturalmente la dimensione della fiera del circo del grottesco del nomadismo e dall'altro non sappiamo purtroppo quale parte della colonna sonora di Rotta utilizzata possiamo immaginare che fosse la canzone di Gelsomina quindi l'elemento più simbolico del film laddove invece Arancia Meccanica Orange Mechanique come indica Lagasse il film di Kubrick del 71 ecco servirebbe penso immagino poiché non so purtroppo non c'è nessuna registrazione dello spettacolo a identificare la forte dimensione di violenza la dimensione tragica all'interno della storia di Turandot naturalmente non sappiamo quale estratto di arancia meccanica la gas abbia utilizzato dicevo dimensione del circo lo vediamo nella distribuzione dei personaggi che ritorna fin subito in apertura questa è l'apertura della pièce di Lagasse come vedete la idea di Lagasse è quella di rappresentare la rappresentazione di Turandot e quindi il Messie Loyal il regista del circo si rivolge agli spettatori dicendo che quello che assisteranno è la favola cinese tragicomica appunto di Turandot la rappresentazione di questa favola ha in qualche modo un effetto sorprendente poiché rimane in circolazione all'interno della regione di Besançon ma nel 1982 Lagasse riceve una lettera dalla società degli autori e compositori drammatici francesi l'equivalente della SIAE nella quale si sottolinea come gli eredi Puccini reclamino dalla GAS il pagamento dei diritti dell'utilizzo dell'opera pucciniana squattrinato naturalmente la GAS e quello che è incredibile è come gli eredi in questo caso a quest'epoca ancora Libio d'Anna abbiano potuto captare questa utilizzazione di Puccini che non è ancora una volta musicale ma è quella testuale del libretto in che modo viene allestito ecco qui abbiamo la prima scena in cui la lo spazio della scena è coperto interamente da questo velo bianco velo bianco che si rivelerà essere poi il vestito stesso di Turandot che ricopre la scena le foto sono di Gilles Magna che era un amico di Lagasse che ha partecipato al primo allestimento il quale ha avuto la gentilezza di autorizzarmi a proiettare queste foto che sono rimaste appunto come tutta la Turandot non pubblicate e non diffuse vediamo lì il clown e Monsieur Loyal i quali rappresentano appunto lo scambio di presentazione della vicenda di Turandot e nel fondo della scena che si avvicina a Turandot il principe vestito appunto da Domato in questo spazio scenico vediamo un'altra diapositiva completa con l'insieme dei personaggi ecco in questo spazio scenico avete la posizione di Turandot completamente distanziata sopraelevata 4 metri e mezzo di altezza rispetto al punto di vista degli spettatori laddove invece come vedete gli attori hanno una serie di gradini di pedana ma comunque rimane un forte allontanamento degli spettatori rispetto e degli attori rispetto alla posizione di Turandot questa idea è quella di rappresentare in qualche modo la solitudine di Turandot diciamo che la lettura centrale che la gas fa è quella della solitudine del personaggio della solitudine di Turandot ne parlavamo prima ne parlava Xavier nel suo intervento Turandot è così perché ha una ragione interiore il testo di Lagasse riprende la motivazione pucciniana di una violenza atavica fatta all'interno del palazzo di Turandot quindi una violenza carnale che spinge Turandot a rifiutare il matrimonio e a punire gli uomini quindi quella traccia che già effettivamente era presente nel Gozi la quinta scena del secondo atto viene amplificata dal libretto pucciniano e viene fatta propria appunto da Lagasse Lagasse sottolinea come Turandot qui debba gridare questa violenza che vive all'interno del proprio corpo e all'interno del proprio pensiero ecco l'immagine quindi di distanziamento è anche un'immagine che vuole tenere Turandot al di sopra degli altri certo anche Puccini aveva in qualche modo rappresentato una Turandot elevata in particolar modo in apertura nell'alto della loggia dove ci sono le teste dei principi morti e poi nell'alto della scalinata bianca ma non c'è questa frattura questo isolamento tra Turandot e gli altri personaggi a tal punto poi che il principe la bacia e la abbraccia come invece persiste nell'allestimento di di Lagasse fino fino alla fine ecco nel momento in cui Turandot deve pronunciare gli indovinelli si mette una maschera quindi ritroviamo la maschera ma che serve in questo caso a sottolineare ancora di più quest'idea di distanziazione tra Turandot persona e una funzione che Turandot incarna che è quella di una specie di donna che fa giustizia della violenza sulle donne e per quanto riguarda gli indovinelli Lagasse utilizza mescolandoli il primo indovinello di Puccini poi utilizza come secondo indovinello il primo indovinello di Gozzi e naturalmente ne parlavamo già ieri non può utilizzare il terzo enigma di Gozzi che è appunto il leone della Repubblica Veneziana in quanto assolutamente incomprensibile e utilizza invece poiché molto più interessante drammaturgicamente il terzo enigma di Puccini cioè quello in cui la soluzione è lo stesso Turandot il nome dello stesso Turandot così come viene utilizzato il finale Puccini in cui Turandot chiude con la parola amore non c'è come in Puccini la scena gioiosa dell'abbraccio finale ma il buio cade nel momento in cui Turandot pronuncia la parola amore ecco un'ultima cosa dicevamo prima come questa funzione ierattica triangolare di Turandot fosse in qualche modo presente anche nell'allestimento cucciniano ma mi interessa sottolineare qui come questa idea per la gas sia un'interferenza forte e cui tracce sono perfettamente visibili un'interferenza filmica estremamente forte la dimensione triangolare distanza l'idea di questa altezza di Turandot e di questa triangolarità vengono riprese dalla gas dal film mitico e maledetto Lola Montes di Max Ophius il primo e ultimo il primo film a colori è l'ultimo film di Max Ophius che racconta la storia di questa avventuriera ottocentesca cantante ballerina attrice amante di Ludwig di Bayera morta in miseria ecco in questo in questo film Lola Montes finisce in miseria a raccontare la propria storia all'interno di un circo e il personaggio che qui vediamo interpretato da Peter Ustinov si chiama Messier Loyal quindi Messier Loyal è colui che presenta Lola Montes così come Messier Loyal di Lagasse presenta Turandot così come Lola Montes mette in scena la propria storia e il film di Ophius è costruito interamente attraverso una serie di flashback che presentificano il passato di Lola Montes raccontato nello spettacolo Cercense e è proprio questo che non fa funzionare il film Max Schultz viene allontanato e il film rimodellato scatenando le ire di François Truffaut e di tutti gli autori della Nouvelle Vague che trovavano in questo film qualcosa di eccezionale ecco all'epoca in cui Lagasse compone adatta a Turandot il film non è più in circolazione verrà restaurato molto molto più tardi ma probabilmente Lagasse lo va a cercare proprio per questo motivo del circo e della solitudine vedete lo schema scenografico del film di Ophius e questo è il bozzetto di Lagasse per la disposizione del pubblico e dell'allestimento della sua Turandot vedete come lo schema del circo sia perfettamente rispettato questo è il punto centrale in cui deve essere posizionata Turandot e l'idea del vestito che occupi interamente la pedana del circo quindi Turandot è lo spettacolo circense così come l'idea della sommità e della distanza non sono solo pucciniane ma ancora una volta sono legate alla scena finale del film di Ophius quello in cui Lola Montes si butta dalla sommità del tendone del circo in un materasso e quindi una scena di acrobazia al limite del rischio di suicidio quando i produttori chiedono a Max Ophius di poter ridurre la dimensione del circo poiché i costi ormai superavano il budget Max Ophius risponde in questo modo non mi interessa la miseria e la povertà di Lola Montes quindi è inutile che mi diciate facciamo un circo miserabile che corrisponde alla miseria del personaggio quello che mi interessa risponde Ophius è la solitudine del personaggio e quindi più il circo è grande più il personaggio dimostra la propria la propria solitudine ecco direi che quest'idea del bozzetto di Lagars vuole rappresentare questa solitudine di Turandot solitudine di Turandot in mano diciamo a un dovere che non le appartiene e questa dimensione di solitudine non verrà mai interrotta neppure nella finale comunque positivo della pièce di Lagars allora per concludere che cosa troviamo in questa in questo utilizzo da parte di Lagars di Gozzi naturalmente la dimensione metateatrale che era già stata esplorata nell'impresario di Smirne di Goldò ma in questo caso non c'è più il frizzante del comico della pièce goldoniana ma una dimensione diciamo molto più drammatica nella Turandot in effetti in questo adattamento Lagars abbozza quelli che saranno i grandi temi del suo teatro la metateatralità che rimarrà una costante in Lagars Hollywood musical nous l'erro sono tutti testi di Lagars che mettono in scena il teatro o gli attori la solitudine nella diversità di Turandot è già qualcosa che sarà un paradigma del teatro di Lagars e il linguaggio il linguaggio come enigma e incomprensione la lingua di Lagars è una lingua costruita sull'impossibilità della comprensione dell'altro e infine la tensione tra Eros e Thanatos centrale anche nella Turandot secondo Lagars e sarà uno dei temi del suo teatro futuro infine questa dimensione circense che è un fil rouge in altre commedie di Lagars colloca questa tematica diciamo queste tematiche nella tensione appunto grottesca tra tragedia e commedia una tensione grottesca che per Lagars è quella della stessa quotidianità diciamo quindi che Gozzi si presenta come il laboratorio teatrale personale di un grande autore di teatro che nascerà grazie grazie ad Andrea Fabiano chiedo venia per il roulette e roulotte di qui sopra peraltro sono un lettore di Lagars posso esibire l'opera omnia va bene no molto interessante per i rapporti naturalmente personali l'attraversamento drammaturgico e l'inizio della Lagars drammaturgo allora abbiamo ci resta l'intervento di Paolo Bosisio uno scontro senza quartiere note di regia per Turandot torna Puccini ma in realtà è la questione dello scontro come ci racconterà di Paolo Bosisio con l'opera non serve ricordare però leggo due righe che ci scrive più di 50 anni di teatro alle spalle vissuto da tutte le possibili prospettive già professore di storia del teatro dello spettacolo presso l'Università degli Studi di Milano Paolo Bosisio autore di molti libri e saggi scientifici ha dedicato una parte rilevante dei suoi studi a Carlo Gozzi peraltro anche la parte degli inizi credo anzi sicuramente dei suoi studi gli lasciamo la parola grazie grazie buon buongiorno a tutti io sono dall'altra parte del mondo in questo momento quindi qui è sera non presento una comunicazione nelle mie vesti di studioso ma in quelle di regista d'opera che è il secondo mestiere sostanzialmente della mia vita e ho avuto l'occasione di mettere in scena Turandot proprio nel 2018 prima che il mondo cambiasse così come è cambiato e l'ho fatto al teatro nazionale dell'opera di Galazzi in Romania dove durante le prove mi è capitato a lungo di discutere con il maestro Stanciu che appunto era il direttore orchestratore dell'opera intorno all'opportunità di seguire o meno la scelta operata a suo tempo da Toscanini e cioè di chiudere lo spettacolo con il compianto di Liou io ho sempre pensato che avrei voluto fare quello poi in realtà si sa la filologia non ha giustamente l'ultima parola sui palcoscenici e in teatro non teatro d'opera soprattutto è meglio non dimenticare mai il pubblico e le sue aspettative che nel caso di Turandot sono quelle del vissero felici e contenti bisogna anche ricordare che la maggior parte degli allestimenti di Turandot hanno dimostrato hanno rivelato la scelta di adottare il finale conciliante scritto da Alfano ma è anche opportuno dire che in molti casi l'adozione del finale ha prodotto una sorta di dilatazione di quella che era un appendice tutto sommato marginale dell'opera abbastanza estranea secondo me all'opera stessa fino a farne la chiave di lettura registica dell'intero melodramma voglio dire che molte Turandot anche pregevoli dal punto di vista teatrale si sono configurate come la rappresentazione della scalata vittoriosa del principe Calaf all'impervio Pendio in alto il quale sta collocata apparentemente indifferente la principessa la quale sempre in questi allestimenti si sentirebbe attratta in maniera ineruttabile dal principe ignoto fino a gettarsi fra le sue braccia questo è quel che salta fuori da molti degli allestimenti di Turandot provando invece a immaginare per gioco un sottotesto probabile mi sembra che ci si debba attendere una durata assai breve per il matrimonio musicato da Alfano e un provabile finale di piattirotti fra la principessa e il principe a mio avviso Turandot non è nelle intenzioni pucciniane io qui non parlo più naturalmente della Turandot di Gozzi una storia d'amore o se si vuole una doppia storia d'amore quella senza speranza di Liù e quella impensabile di Calaf con Turandot ma è la storia di uno scontro senza quartiere tra nevrosi diverse e contrastanti nella lettura che Puccini con i suoi librettisti offre della fiaba dico Goziana ma naturalmente non solo Goziana Turandot è una donna frigida sessualmente convertita alla più accesa repulsione pregiudiziale nei confronti del maschio per colpa per causa direi così di un trauma ancestrale quello di cui parlava poc'anzi Fabiano subito da una sua antenata ma se uno esce dalla lettera del libretto l'antieroina puciniana appare piuttosto come una donna che rifiuta la fallocrazia dominante nella sua cultura quindi è un fatto politico e culturale cui non intende sottomettersi allo scopo di dare all'imperatore suo padre l'erede al trono che egli non ha avuto essendo Turandot femmina e unica figlia dell'imperatore medesimo d'altro lato Calaf come molti eroi del melodramma non solo puciniano è innanzitutto un irresponsabile incapace della lucidità minima indispensabile per riconoscere come stanno le cose come stanno i sentimenti e orientare di conseguenza la propria condotta al semplice buonsenso ed è così patologicamente esaltato che di fronte alla semplice visione da lontano di una donna che si suppone bella rinuncia completamente a usare il proprio discernimento per gettarsi in un'avventura di un'è che il cui esito è prevedibilmente letale egli è Calaf è infine un presuntuoso e arrogante nevrotico il quale non contento di avere superato un cimento che appariva insuperabile arriva a proporre subito e a sua volta un quesito di sua invenzione quasi che e questo mi sembra il punto interessante il rischio in sé e non il risultato vittorioso il percorso e non l'esito costituisca la fonte autentica del suo piacere senza alcun riferimento alla garce e quindi nessun riferimento diretto al circo ho deciso di disegnare i tre ministri come altrettante figure sinistre e sgradevoli che dietro a uno schermo claunesco celano sentimenti deplorevoli quali prima di tutto l'invidia l'invidia nei confronti dei maschi dei maschi veri come Calaf come i principi che sono morti mentre essi devono essere eunuchi dato che hanno il permesso di aggirarsi liberamente nella regia il sadismo che le teste mozzate macabramente esibite sulle mura conducono al piacere estremo la falsità che guida le loro azioni artatamente caritatevoli abbandonate naturalmente le maschere mi è sembrato pertanto più opportuno calare i tre sedicenti ministri nelle vesti di tre clown bianchi nella tradizione della clownerie circense i clown bianchi rappresentano infatti l'eleganza la grazia l'intelligenza e la lucidità gli augusti per converso ossia i clown monelli e scalcagnati contraddistinti dal naso rosso rappresentano l'esatto opposto sono incapaci di intenzioni cattive e tantomeno di azioni cattive ma si ribellano alla perfezione algida e in fondo crudele dei bianchi i tre ministri di Turandot sono senza dubbio assimilabili a perfetti esemplari del clown bianco applicando con intransigenza le regole dettate dalla principessa ma a tratti la loro inflessibilità sembra vacillare nel tentativo di presentare come scelte allettanti i comportamenti in realtà previsti dai canoni di corte eccoli dunque nel mio spettacolo estrarre rapidamente dalla loro elegante livrea il naso rosso di Augusto e indossarlo cambiando atteggiamento senza mai dimenticare il vero obiettivo del loro agire salvo poco dopo riporre frettolosamente i bei nasi rossi cancellando con un gesto la piccola trasgressione posta in opera e come clown intenti per definizione professionale a giocare sempre ping pong e pang giocano sempre sul mio palcoscenico sia che cantino sospingendo una giostra a carosello sia che si lancino dei crani come fossero le palle di un macabro gioco sia che si sdraino su comodi futon a ricordare i bei tempi passati sia infine che girino vorticosamente su piccole biciclette inadatte ai loro corpaccioni eccoli qua ora incomincio a farvi vedere delle immagini che ritraggono queste con le quali incominciamo proprio i tre clown qui li vedete in un momento nei quali sono clown bianchi naturalmente non sono clown vestiti in maniera del tutto tradizionale ma sono interpretazioni dei clown eccoli qua mentre si rivolgono a calaf e hanno indossato il naso rosso come vedete perché stanno cercando di allettarlo qui ancora li vedete senza il naso rosso mentre commentano in silenzio le parole di Turandot e qui li vedete nel momento in cui estraggono il naso rosso e lo indossano eccolo qua più da vicino con il naso rosso indossato qui li vedete mentre tengono in mano i crani con cui fino a due minuti prima hanno giocato lanciandosi la vicenda qui li vedete invece sdraiati sul futon mentre cantano quel pezzo molto bello in cui ciascuno di loro ricorda il passato ecco l'ambiente della corte come rappresentato da Puccini include oltre alla principessa ai ministri all'imperatore al mandarino al boia al principe di Persia tre sapienti danzatrici ancelle soldati bimbi quindi un gran numero di personaggi comprimari di figure comprimarie che si muovono sullo sfondo senza avere alcuna rilevanza se non strumentale ecco qui per esempio vedete i bambini il coro di bambini qui vedete le danzatrici che dovrebbero nelle intenzioni di Ping e Pong e Pang che si intravedono sulla destra attrarre la volontà la disponibilità di Calaf qui vedete i fantasmi che cantano nella luce della luna e qui invece arriviamo alla principessa nell'ipotesi scenica che ho realizzato insieme a Domenico Franchi scenografo e costumista i colori dominanti per la corte come vedete proprio in questa immagine sono il nero e l'argento che abbracciano in una sorta di amplesso mortale luoghi e persone illuminati da tagli di luce gelida crudeli per le ombre scurissime e i contrasti forti che generano la scenografia rappresenta in modo fortemente simbolico i luoghi dell'azione sulla sinistra lo spazio dell'isolamento e di nuovo Fabiano mi ha fatto ritrovare il Lagarche cose che francamente ovviamente io non conoscevo lo spazio dell'isolamento direi del carcere d'argento in cui Turandot vive rinchiusa e questo carcere da me è stato rappresentato come una gabbia una grande gabbia per uccelli ornamentali dai riflessi argentei cioè dello stesso colore gelido della luna la luna stessa o la luce lunare sembra essere l'ubicon system della principessa che non c'è azione sua o di chi ad essa si rivolga a non essere colpita dallo schiaffo di una luce gelida e insolente Turandot non esce mai di scena e neppure dalla gabbia visibile al pubblico fin dal primo atto voi sapete che nel primo atto dell'opera di Puccini Turandot non canta non ha nemmeno una frase quindi in genere non è nemmeno visibile invece è visibile chiusa nella sua gabbia algida farfalla con il volto coperto da una maschera misteriosa che ricorda il dorso di un insetto velenoso lascerà che il suo abito quasi trasparente si muova a formare un immenso paio di ali che richiamano le molte farfalle azzurre che volano dentro la gabbia e sopra di lei ecco qua Turandot nella sua gabbia ecco le farfalle che volano intorno a lei ed ecco Turandot vezzeggiata dalle ancelle nel momento in cui è chiamata a pronunciare muta la sentenza che condanna il principe di Persia in quel momento Turandot si alza e lascia cadere al suolo un sottile drappo rosso che si srotola rapidamente disegnando un torrente di sangue che dalle sue mani giunge fino a terra e qui ancora la vedete con le farfalle sopra la sua testa dentro alla sua gabbia sulla destra il luogo della violenza e della legge sanguinaria che domina la corte un'altra grande gabbia gemella rispetto a quella in cui sta Turandot dentro la quale si alternano le figure rappresentative del suo potere il boia e lo vedete qua il mandarino e i saggi che leggono la risposta agli enigmi e che indossano tutti delle maschere che rendono irriconoscibili le loro fattezze umane lo stesso imperatore appare come l'icona del suo ruolo lo vedete lì in mezzo incastonato dentro a un trono che ne abbraccia il corpo facendolo scomparire con un grande elemento decorativo composto da un copricapo e da una lunga barba che ne annulla i lineamenti qui lo vedete più lontano e come vedete è sempre immobile e canta dietro a questa maschera che gli lascia aperta solo la parte bassa del viso tutti questi personaggi cioè tutti i personaggi che fanno parte della corte appaiono piuttosto come mostruose proiezioni dei pensieri di Turandot sono anzi propriamente quelle proiezioni e lo spettatore è colto dalla sensazione di trovarsi al cospetto di numerose estensioni metaforiche della mente della principessa che di volta in volta lancia i suoi messaggi di morte attraverso le bocche del mandarino del boia dei sapienti e persino dell'imperatore di suo padre semplice funzione attenuativa quanto inefficace della propria sconfinata crudeltà nella mia lettura l'umanità sta tutta esclusivamente relegata in un cono di luce calda entro il quale si consuma il dramma umanissimo di Liu e Timur vedete che la luce è completamente diversa e tocca solo i due personaggi mentre il resto è immerso nella luce lunare i due personaggi non entrano mai in vero contatto con gli altri ciascuno dei quali vive in un suo mondo di luce Liu e Timur trascinano nella luce autentica del giorno e della notte gli ultimi momenti delle loro infelici e dolorose esistenze eccoli qua di nuovo ed ecco la morte di Liu che viene portata fuori a spalle da dei dipendenti di Turandot la chiave simbolica e allusiva che presiede al disegno dei costumi si manifesta anche nei volumi che dominano e attenuano fino a cancellarla la dimensione umana dei personaggi dei corpi grandi maschere copricapi altissimi parrucche argente tuniche lineari grandi volani di garza e tulle trasformano le persone in simboli ne rappresenta l'esempio più alto la stessa principessa velata nel primo atto come rinchiusa nel corpo di una gigantesca farfalla di cui si libera in parte nello svolgimento della vicenda fino a giungere e qui siamo nel finale alfaniano ad assumere fattezze umane che le consentono per la prima volta di uscire dalla sua argente a prigione aprendo la porta della gabbia e sul finale vorrei soffermarmi arrivando anche alla conclusione del mio intervento per sottolineare come io abbia cercato di rendere scorrevole il passaggio dal mondo e dalle intenzioni drammaturgiche di Puccini a quelli di Alfano senza incorrere nei rischi di cui ho detto all'inizio e cioè di trasformare l'intera chiave di lettura dell'opera basandomi sul finale ciò che accade nel finale di Alfano che poi è una coda spuria ho sostanzialmente cancellato la tradizionale scena d'amore tra i due protagonisti l'ho cancellata sostituendola con un castigato avvicinamento per modo di dire dei due personaggi il cui segno forte è costituito dalla lenta e incerta uscita di Turandot dalla sua gabbia regno è lei a inginocchiarsi a debita distanza di fronte a Calaf e non il contrario a significare non una conversione sentimentale bensì un atto di resa il principe non più ignoto ha guadagnato a rischio della sua vita è il trono ma non ha conquistato il cuore che non sembra battere né ora né mai nel petto di Turandot grazie grazie a Paolo Bosisio per il racconto del suo corpo a corpo con la Turandot allora abbiamo terminato e abbiamo però ancora spazio siamo perfettamente in orario e quindi possiamo aprire la la discussione gli interventi Anna Barsotti potrei dire due parole e quindi senz'altro ecco mi si vede ti si vedeva ora sei sparita e ti sentiamo aspetta 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 no non vuole farmi vedere ecco adesso funziona ecco adesso funziona allora sono due parole proprio alcune osservazioni che derivano dal sia dal dalle cose che ho sentito ieri anzi mi complimento perché si tratta di relazioni tutte molto interessanti e che ho sentito stamattina cioè anzitutto mi pare forse dico una cosa scontata ma come mi pare che emerga come Turandot sia un'icona una specie di archetipo femminile che nel novecento o dal novecento in poi diventa appunto il simbolo della donna la quale donna e regina donna comunque di grado superiore che si vendica dei maschi e al tempo stesso intende emarciparsi dalla propria condizione quindi l'elemento femminista non va trascurato secondo me nell'ambito appunto novecentesco perché e d'altra parte questo elemento emancipazione e vendetta crudeltà compresa in qualche modo la viene ad assimilare a Medea un altro archetipo appunto femminile che per il quale turandot e Medea hanno in comune anche la diciamo il potere che si è detto ne ha parlato la Teresa Megale il potere non tanto politico quanto il potere sapienziale cioè sono entrambe donne sapienti e la sapienza diventa l'elemento fondamentale per la loro emancipazione sia pure attraverso la crudeltà ma proprio attraverso la crudeltà sia attraverso la vendetta e il rapporto con il femminismo mi fa pensare anche a uno dei femministi dell'epoca degli anni settanta le streghe sono tornate in un certo senso sia Medea è sicuramente una maga e anche turandot ha in alcune interpretazioni la fisionomia appunto di una di una di una maga di una strega poi dal punto di vista iconografico ecco e qui faccio riferimento all'intervento di Fabiano dal punto di vista iconografico quella veste che occupa di turandot che occupa tutta la pedana dall'alto in basso mi ha fatto venire in mente sempre nell'ambito del femminile una installazione di Marina Abramovic in cui l'abito è rosso ma appunto occupa l'intero spazio ma anche un Emma Dante il il mamma santissima in cani di bancata si colloca in alto di una tavolata con uno strascico del vestito della sposa che dall'alto appunto scende in basso ad occupare tutta la scena non conoscevo la Gans non so se la Dante possa aver fatto riferimento a quello spettacolo probabilmente no ma però ecco l'immagine probabilmente l'abramovic cioè all'abramovic sì un'altra cosa e poi chiudo e questo è rivolto un po' alla Teresa Megale la corona copricapo no la corona copricapo della rappresentazione del 26 Teresa Megale ha fatto riferimento all'epidemia piume allora le piume mi fanno venire in mente il il Visconti e in particolare appunto una sua messa in scena con il non di Turandò ovviamente con i costumi di Mario Chiari in cui appunto emergevano delle piume ma soprattutto e qui torno di nuovo alla Dante quel copricapo oltre che le piume contiene anche delle rose e queste rose compaiono nel copricapo corona di Megara nell'Era Clè ancora di Emma Dante sono queste osservazioni cioè delle suggestioni ecco soprattutto non so se mi si vuole rispondere prego sì allora credo che Teresa e gli altri possano chiaramente rispondere poi abbiamo anche una domanda di Françoise de Croisette ma se permettete posso cominciare prego posso cominciare io Teresa vai 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 vado allora per quanto riguarda la questione del femminismo anch'io naturalmente visto gli anni allora evidentemente è madante poi è posteriore invece le performance potrebbero siamo in quegli anni là sono fine anni settanta se non sbaglio inizio anni ottanta a parte quella di Parigi non so se quella a cui tu fai illusione è stata fatta a Parigi insieme a Ulai o no quindi la possibilità che la Garza a vent'anni l'abbia vista direttamente sapendo che abitava in provincia non è per forza di cose automatiche anche se andava andava spesso a Parigi e questo è chiaro ecco io non rimarrei invece sull'idea di una sessualità binaria per quanto riguarda la Garza io trovo che siamo già in quello che i giovani oggi chiamano il non binarie quindi una sessualità che non è più binaria uomo e donna che invece mette in avanti quella che comunque è una violenza sessuale e quindi il discorso del femminismo passa in un secondo piano ed è per questo in alcuni casi per esempio ci sono delle tracce negli appunti di Lagarsi in cui il principe è interpretato da una donna quindi la dimensione della sessualità si sgrana in qualcosa di diverso quella della violenza sessuale invece effettivamente effettivamente presente bene Teresa si arrivo eccomi eccomi sì volevo ringraziare Anna Barsotti per questa per queste due due aperture su soprattutto l'accostamento tra Turandotte e Medea effettivamente ciò che caratterizza Medea è la sua capacità di concepire e di organizzare la sua scienza contro gli uomini questo già nel difendersi dall'infedeltà maschile già in Gozzi c'è questo elemento e la cosa molto bella scenicamente lo dico anche perché c'è un regista tra noi che è Bossisio che ha diretto questa Turandotte la cosa molto bella è la scena del catalogo dell'elenco degli enigmi quindi la sorpresa il fatto che ci siano dei personaggi dei ministri di corte che ogni volta ad ogni rappresentazione sciorinano questa cartella che contiene l'elenco degli enigmi quindi quello è un momento molto alto ed è un elemento in cui c'è si concentra la forza la forza mentale di Turandotte e certo il tratto di genere è fortissimo e fortissimo parte da Puccini e parte da Puccini anche in modo tutto sommato inconsapevole perché la difficoltà della scrittura del libretto fu tale che il libretto rimase incompleto nonostante 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 Puccini come sanno tutti i musicologi ci avesse lavorato fino a un attimo prima di farsi operare a Bruxelles c'è un'altra cosa importante cioè le piume le piume del le piume della corona senza senz'altro le piume sono qualcosa che va studiato di fatto io facevo notare lo scarto nel 26 dall'arte Liberty per cui le piume sono inserite nei ventagli sono inserite fanno parte degli oggetti di scena del teatro cosiddetto minore del teatro del Café Chantin del teatro di varietà e finiscono poi in testa alla regina cinese anche questo ringrazio la Barsotti ripeto per questo cenno viscontiano sicuramente il segno però in visconti è di altro genere secondo me comunque scusa se ti interrompo secondo me anche in quel caso in visconti è un attributo regale no? si tratta delle veste aiuto si senz'altro ciò che mi suscitavano invece le tue parole è questo rispetto al femminismo di Turandot questo femminismo che deve essere messo in relazione rispetto a quell'enorme pamflet poi degli anni 40 dei primi anni 40 la Turandot abbiamo visto quanto diventi un elemento ripetitivo per la cultura lirica insomma l'opera di Roma gareggia con la scala di Milano esagera quasi negli allestimenti di Turandot e quindi abbiamo un'enorme invasione nel primo novecento che si ripropone poi dagli anni 80 in poi del novecento non dimentichiamo ad esempio che il maggio musicale fiorentino chiamò Zanimu per questo progetto enorme di una Turandot orientale fatta da un orientale che rappresentò l'Italia peraltro proprio in Oriente e che sarebbe tutto da studiare da un punto di vista così spettacolare degli esiti proprio spettacolari e spettacolari dicevo che però questa figura a me richiama molto l'idea di Gadda cioè io affronterò il capo di Gadda scritto tra il 41 e il 43 mi pare con con l'impostazione che Adami Renato Simoni dettero questo libretto cioè un momento in cui si prende proprio in giro anche si superano i limiti del di quello che diceva anche Andrea Fabiano cioè di questa cultura fallocratica che è al centro di una al centro di una costruzione culturale che non ha più ragion d'essere quindi la guerra la fallocrazia e Turandotte poi alla fine di tutto ero sepriaco di Gadda che fa la satira proprio di tutto il mondo del potere maschile insomma è un argomento molto forte non so perché nel sentire la Barsotti che appunto metteva il raffronto Turandotte come idea mi ha suscitato anche l'associazione con gli altri che secondo me è da studiare ma è pertinente allora non so se Paolo Bosisia voleva intervenire poi abbiamo due domande che sono arrivate in allora una domanda di Françoise De Croesette che posso leggere o la rivolge lei direttamente no ma l'avrà letto penso era per Fabiano va bene ma lo lo sentiamo tutti prego prego era per perché parliamo di influenze di circolazione così di immagini visivi che vanno da da un regista all'altro da un'interpretazione all'altro e si nota che in molte di quelle regie anche quella di Paolo c'è quest'idea centrale di un riferimento al circo io ieri avevo così pensato che la scelta per esempio di peli su pantalone su anche Brighiella tendeva verso figure un po' da clown e quindi sembra una cosa che circola anche quindi vorrei sapere perché la gas è una cosa molto segreta finalmente che non ha avuto una grande diffusione le le foto di scena particolarmente perché c'è quella quel drappo che si alza verso Turandot che è molto suggestivo e che può dare l'idea di di quel palco scenico a onde che pelia poi ripreso dunque è sulla circolazione di queste immagini che va da da una resa scenica a un'altra e mi sembra interessante e poi anche avevo visto che l'ho citato ieri che Pintillier aveva messo in scena la guettillerie che era uno spettacolo di Chayot nel 74 una Turandot e guardando di nuovo non sono non ho potuto vedere ci sono tutti i documenti alla nazionale ma c'è scritto che ci sono dei documenti che mostrano era con Andrea Ferreol con attorno 25 anni e quindi questa regia non la conosco non so se tu Fabiano sei andato forse hai avuto la fortuna di arrivare fino a questi documenti perché c'è tutto un mondo che riprende a quel momento 74 poi e poi va più in là che trae verso il circo c'è anche un po' pirandelliano se posso intervenire era io vorrei gli anni e poi i clown di Fellini la ricaduta sono state decine centinaia di spettacoli in chiave con la chiave circense quindi quello è anche molto anni 70 insomma mi taccio allora rispondo per la questione tecnica della diffusione allora le immagini fotografiche sono non sono diffuse sono del fotografo Gilles Magnin che era un amico di Lagars quindi faceva parte della band a Lagars in quegli anni lì che io ho contattato personalmente il quale mi ha autorizzato a mostrarle in questa occasione e naturalmente a non di fondo perché sono oggetto di diritto d'autore detto questo sul sito Théâtre Contemporain che è stato fondato tra l'altro da uno degli attori di Lagars François Berreur che interpreta il principe in Turandot ci sono due o tre immagini di Gilles Magnin lui non sapeva neanche che erano presenti sono io che sono io che gli ero segnalato e sono presenti lì per quanto riguarda invece i documenti manoscritti sono tutti conservati all'IMEC vicino a Caen quindi fanno parte del fondo Lagars che ho avuto possibilità di quindi di esplorare prima dell'ultimo lockdown francese una parte di questi documenti stanno progressivamente sono in fase di digitalizzazione dall'università di Besançon e quindi messi online dalla stessa università vorrei anche io intervenire un momento per dire che naturalmente io personalmente non conoscevo nella maniera più assoluta lo spettacolo di Lagars e ci terrei a precisare che nel mio allestimento il mondo del circo non c'è nella maniera più assoluta la citazione del clown bianco è la citazione di un archetipo che poi insieme al costumista abbiamo anche rielaborato proprio perché non fosse la fotocopia del clown bianco che si vede nei circhi anche se da lì deriva del resto la presenza del circo nel teatro è così importante anche nel cinema naturalmente lo spettacolo è così importante di nuovo archetipica che a me è capitato molti anni fa di utilizzarlo lì sì come elemento di così come contenitore il mondo del circo l'ho utilizzato per cavalleria rusticana e pagliacci senza chi ora io ne quindi qua nel mio caso il circo non c'è c'è l'archetipo del pagliaccio con l'altro ecco abbiamo una domanda di Federico Fornoni che aveva chiesto di intervenire sì provo a comparire era sì in realtà una considerazione sulla turandotte di Puccini più che altro visto che è saltata fuori un po' in tutte le relazioni di questa seconda parte allora il caso di Puccini è un caso in cui a maggior ragione rispetto ad altri musicisti drammaturghi bisognerebbe un po' capire i motivi per cui lui si approccia a un soggetto perché davvero è una cosa che fa sempre cioè ci sta su un sacco di tempo si deve far convincere si deve far prendere dal soggetto e nel caso di Turandotte lui lo dice abbastanza chiaramente nelle lettere ci sono molte lettere in cui spiega questa cosa e dice che il motivo che davvero lo interessa è lo sgelamento della principessa quindi la rappresentazione diciamo di due dimensioni differenti della Turandotte quindi c'è la Turandotte del primo atto e poi del secondo atto e poi ci dovrebbe essere la Turandotte del momento dello sgelamento che è quello del finale dell'opera che ovviamente non è non è non è stato messo in musica non abbiamo la musica però abbiamo degli abbozzi e anche questi abbozzi sono abbastanza interessanti perché uno dei procedimenti tipici di Puccini era quello nei finali dell'opera di recuperare musica precedente cioè costruisce musica nuova su musica che avevamo già sentito nel corso dell'opera in questi abbozzi invece della Turandotte che ci sono arrivati abbiamo tutta una serie di melodie nuove di temi nuovi che lui probabilmente avrebbe utilizzato avrebbe voluto utilizzare nel corso del duetto quindi l'idea proprio è quella di creare un momento quello che gli interessava proprio era il momento di passaggio fra il gelo di Turandotte e invece il momento proprio dello sgelamento questo era un po' il cuore drammaturgico del suo interesse le lettere da questo punto di vista sono assolutamente chiare bene ci sono altri interventi Paolo io vorrei dire che appunto proprio lì il pericolo sta nel fatto che siccome il terzo atto non c'è siccome il finale non c'è il pericolo è quello di prendere il finale di Alfano che è esattamente il contrario di quello che probabilmente Puccini voleva fare perché Alfano non ha fatto altro non molto poteva fare che riprendere temi emotivi musicali dell'opera rifriggerli nel finale che diventa un finale dolciastro non nuovo più che prevedibile è proprio il visero felici e contenti musicale che è quello che secondo me va rigorosamente evitato mettendo in scena l'opera che è quello che ho cercato di evitare guai a ribaltare il finale di Alfano sull'opera di Puccini purtroppo il finale di Puccini non c'è quindi o ci fermiamo al compianto di Liù come io teoricamente avrei voluto fare o se dobbiamo andare avanti forse bisogna tenere distinte le due cose il più possibile bene posso una precisione perché forse non ho non l'ho detto ma lo ripeto visto che avevi tirato fuori l'opera omnia di Lagasse naturalmente la Turandot è inedita quindi non è non è stata edita né nell'opera completa di Lagasse né in altre forme certo sì sì questo davamo per scontato grazie della precisazione ci sono altri che vogliono intervenire allora chiudiamo la sessione della mattina e quindi l'appuntamento è alle 15 e 30 oggi pomeriggio e per i relatori come sempre si raccomanda di farsi vivi mezz'ora prima per provare il funzionamento della ecco va bene